Non siamo un parchito, non siamo una casta, siamo cittadini, tutto e basta Ognuno vale e paro, ognuno vale e paro, ognuno vale e paro, vale e paro Non mettesi comunicazione che si dice che mi chiamano così Pulopolo Lascia Pulopolo Io sono per la trasparenza e il mio voto l'espresso durante la video Va bene, sono rimasto qui adesso da un tavolo, tutto e tutto da solo A che piangi? A che mattina Va bene, dai, siamo in mezz'ora dell'età, quindi magari vai a cominciare, se ti d'accordo Anche per quelli che sono arrivati in terpetto radio, diciamo che non ci conoscevano molto Perché è sempre con un certo ritardo Purtroppo Arrivano tutti molto con calma Allora, va bene, io servo solo, sono qui per aprire e cercare di condurre insomma la giornata Nel senso fare da moderatore, poi sono altri che devono parlare innanzitutto voi Allora, prima cosa che faccio è quello ovviamente di dire benvenuto a tutti Vi ringraziamo di essere qui, come sapete oggi abbiamo un evento che abbiamo pensato innanzitutto per la riconferma semestrale del nostro rappresentante al Consiglio Comunale di Milano Mattia, che si è qui accanto Poi abbiamo pensato insomma di ricarico da parte di questo imponto anche alla possibilità innanzitutto Magari appunto non è venuta accoglienza nei confronti dei nuovi Cioè quelli che magari o non sono mai venuti a un incontro con noi O magari conoscono un po' o niente del movimento Cinque Stelle Quindi cercare di dedicare almeno metà della giornata Al tempo che abbiamo Appunto per interventi Di chi sta da quella parte e non di chi sta da questa parte Allora, oggi abbiamo pensato questi punti Su cui chiedo la vostra approvazione Allora, il primo punto è il resoconto dell'attività che farà Mattia sul primo semestre di consigliatura Lui parlerà anche un po' della gestione di gruppi di lavoro Come davanti di noi appunto per dare supporto al suo lavoro Tutta un po' la gestione istituzionale E se sapete che oltre a Mattia Noi abbiamo 15 consiglieri di zona Tra l'altro poi, sembra il caso Magari nel punto successivo I consiglieri di zona presenti Magari se vengono qui a tavola Che si fanno vedere Per tutti e chi non riconoscesse Insomma, presentiamo anche tutti i consiglieri di zona presenti Quindi, dicevo, primo punto Allora, Mattia Direi, abbiamo pensato una ventina di minuti Dopodiché, su questo intervento di Mattia 20-30 minuti almeno di nocate Su questo punto specifico Dopodiché, facciamo appunto la votazione Di riconfermo Come vedete c'è la nostra urna All'ingresso c'è il centimiccio La verifica della registrazione al portale Che era una delle requisite Dopodiché, con le schermine si può notare Dopodiché, il punto successivo Parliamo della partecipazione al movimento Cioè, di com'è possibile Per appunto Partecipare all'attività del Movimento 5 Stelle In particolare Qui a Milano E' passato tutto l'esperienza Dell'ultimo anno Ho ritrovato un ricordo Qualcuno di voi era presente Se ricorderà Che proprio qui Esattamente l'anno fa Abbiamo effettuato le primarie Quindi abbiamo già un anno alle spalle Del primario Che hanno eletto appunto Mattia Il nostro candidato Portavoce sindaco Quindi appunto Dicevo la partecipazione al movimento Così come funziona oggi Quindi anche su questo Domande e chiarimenti Proposte Poi fino alla fine della giornata Travista alle 18.30 al massimo Perché La nostra disponibilità della sala Fino a quell'ora Domande e chiarimenti Rilascio dei contatti Tutto quello che diciamo Forrete Fino appunto alla fine Della giornata Io ricordo che È possibile anche Per dire Dare Già passata A Paola Credo Per autofinanziamento Dare un po' di contributo Piccolo Contributo Monetario Per pagare la sala E delle malattività A questo punto Di questa scaletta Di argomenti Io vi chiedo Se siete d'accordo Se c'è qualcuno Che vuole proporre Un'altra scaletta Di argomenti Diciamo soprattutto Tutto rispetto Ovviamente Il tutto Che riguarda Il suo conto Di mattina Penso che Insomma È l'obiettivo principale Ma se intende Parlare di altri Tutti Oggi Può proporre Un organismo Solito Che si stava Assemblea In questo tipo Per cui Si propongono Integrazioni Modifiche All'ordine del giorno Con Una Percentuale Evviamente Prevalente Di Voti Siete tutti D'accordo Su questa scaletta All'ordine del giorno E Si ha senso Quando gli abito Perfetto Però seguiamo Per cui Io do subito La parola Di cui Io vorrei parlare Il meno possibile Perché se comincio A parlare Io non ti scopri Come spesso Ti dicono E allora A questo punto Attica Ci farà E adesso Il punto L'attività E ci parlerà Dei Sì Ciao a tutti Allora Vi spiego Come ho strutturato Questi Venti Minuti Di intervento Prima di tutto Abbiamo distribuito Un foglio Che di fatto Tracchiudo Un po' Di riflessioni Partendo dal primo Comunicato stampa Che abbiamo fatto Una volta entrati In Palazzo Marino Quindi quali erano I nostri impegni Con Qualche riflessione Su come abbiamo Lavorato in questi Sei mesi Se di fatto Li rispettiamo O come no Che sarà di fatto Uno dei Dei Combiti Nostri Di quest'oggi Proprio Considerare I punti di partenza E verificarli Se l'attività svolta È stato nel modo corretto Se sostituiscono Ovviamente I requisiti Del Movimento 5 Stelle Per poi Nel caso Riconfermare Oppure Non riconfermare L'eletto La seconda parte Invece sarà Più descrittiva Del mio operato Del giorno Normale Da consigliere Del Movimento 5 Stelle Un po' Cosa consiste L'attività quotidiana Cosa di fatto Come ci si prepara E dove si svolge Di fatto Questo lavoro Una parte Proprio Sulla vita Di tutti i giorni La serie Di questa parte Perfetto Partendo Da questo documento Parto dal Primo comunicato Avevamo affermato 5 punti Che avremmo operato In questo modo Quindi Restituendo informazioni Corrette ai cittadini Facendo rete Utilizzando i nostri Eletti come portavoce Protestando certo Ma con progetti Alternativi Lottando a tutti i livelli Per togliere soldi E privilegi giusti Alla cassa dei politici E l'ultimo punto Lottando anche a livello locale Affinché la politica Non fosse rifugio terreno Di conquista Per i venuti Questo diceva Il nostro Primo comunicato stampa Come impegni All'interno di Palazzo Marino Rileggiamo quindi Questi punti E verifichiamo Cosa abbiamo fatto In questi sei mesi Prima di dire Abbiamo contribuito A diffondere Tra i cittadini Le risorse guarde del comune Che restano facilmente Cliccabili Sulle nostre pagine facebook Questo è uno dei primi conti E' stato Rendere pubblico Quello che è già pubblico Perché se tu lo metti In una posizione Dove non è facile da trovare Vedi il sito del comune Che è indicizzato in un modo Un po' particolare E' un miglior modo Per non far trovare i documenti Secondo tutto Abbiamo promosso la possibilità Di assistere fisicamente Ai consigli E alla compilia Dei commissioni Di cui pubblichiamo i programmi Di cui pubblichiamo i programmi Poi ovviamente parleremo Bene della diretta twitter Che facciamo dal consiglio Che è consiglio miglioralunibus E gli aggiornamenti video su youtube Quindi esatto Una parte di twitter Pubblichiamo su web Specifici i video commenti I consigli Che sono i consigli miglioralunibus Abbiamo spiegato Un video Tra i 5 e i 10 minuti Di riassunto Restratti video Le nostre dichiarazioni di voto Questo è un lavoro Che facciamo costantemente Per tutta l'attività Del consiglio comunale Quindi Spostare su youtube Le video registrazioni Di tutti gli interventi E tutti gli articoli 21 Poi anche qui sarà carino Vedere la differenza Tra le riprese del comune Quelle ufficiali Con la videocamera stretta E il microfono personale Rispetto a quelle che facciamo In presa diretta Che Claudio ci aiuta a fare Dal consiglio comunale Dove si vedono bene Come i consiglieri stanno Come lavorano Durante queste 4 ore di consiglio Per esempio Fanno dei gruppi Dottor Stadano Dei capoli d'oro Non seguono la discussione E vedremo bene Da un video Per quanto riguarda I comunicati stampa Utilizziamo anche i canali Oltre a internet convenzionali Abbiamo fatto Circa uscire 30 comunicati stampa E infine Il web Ovviamente Il web Di cui parleremo Meglio poi È il nostro strumento principale Che ci dà Totale indipendenza Dalle sistemi di comunicazione Come giornali E televisioni E al contrario Ci riesce A dare gli stessi risultati Perché se un giornalista Vuole fare un articolo Su cui noi Trova tutto il materiale Su internet E allo stesso tempo I canali I canali Direzionali con i cittadini Per quanto riguarda Sempre la trasparenza Ovviamente In tutte le occasioni Abbiamo cercato Di rendere Chiari I giochini Di maggioranza Opposizione Per esempio Le riunioni Private Durante il consiglio Infine Con delle richieste Proprio per Circa la pubblicazione Dei documenti Del consiglio In questo momento Abbiamo la diretta streaming Ma un cittadino Che vuole seguire la diretta Non ha sotto mano i documenti E questo rende impossibile Seguire il consiglio Anche qui si sta lottando All'interno del comune Per fare pubblicare Quello che di fatto È già a disposizione Del comune Ma soprattutto Che sotto a Albertini Era già disponibile Sul sito del comune Infatti era stato solto Sotto la giunta Moratti E non si sa Teneva Non ha ancora Di destinato Questo servizio Tra l'altro Andando Veloce avanti Nei punti Lo spirito di questa votazione Di questa riconferma Ovviamente sentendo un po' Dove In Emilia Romagna Dove questa pratica Viene fatta da anni La riconferma Di fatto uno strumento Di controllo sociale Soprattutto sul quarta voce Qual è lo spirito Prima di tutto Per sentire Che questo è un dipendente Dei cittadini Infatti siete qui a dirvi Come lavorare Infatti una parte Per i cittadini Le vostre domande Furiosità Tra virgolette Nel caso Richieste Su come operare Quindi proprio Fare sentire Un dipendente Il politico Come da essere Allo stesso tempo Far sentire Il controllo Il dettorato Su chi viene eletto Uno delle mancanze principali Del nostro sistema politico Detto questo Passerei alla presentazione Bilancio 2011 Ritardendo da Un anno fa Esattamente un anno fa In questa sala Stavamo votando Il candidato portavoce Sindaco Da circa un anno Il Movimento 5 Stelle A Milano È decisamente cambiato Eravamo un piccolo Gruppo di attivisti Impegnati Sul lavoro Sul territorio L'ambiente E la lotta Agli inceneritori E un anno fa Abbiamo iniziato Questo percorso Con la costituzione Della lista civica Che ha portato A un movimento Di cittadini A darsi la rappresentanza Politica In un sistema Assolutamente chiuso E quindi Partendo dal nostro Obiettivo primario Infiltrarci Entrare con un consigliere Il nostro obiettivo Sia ovviamente Nel comune Che nelle zone Ricordando che In comune ci sono Io Come consigliere comunale E poi nelle zone Undici consiglieri di zone Quindi A parte il giornale Dove non eravamo Presenti In tutte le zone Presente un consigliere E in tre zone due In un anno Cosa è successo Di fatto è cambiata Oltre al nostro gruppo Di fatto Tra le zone In tutti i vari gruppi Ci sono tantissimi attivisti Tantissimi cittadini Che iniziano a fare Riferimento su di noi Ma proprio la percezione Del movimento 5 stelle E quindi anche Negli ultimi sei mesi Dopo la campagna elettorale Che qualcuno Aveva preso anche come Come provocazione E tutto Hanno seguito La nostra attività E l'hanno visto Di fatto Come stiamo Portando avanti I progetti Come stiamo Impostando la partecipazione E soprattutto Come il nostro Gruppo consigliare Da un servizio I cittadini Indistintamente Dalle loro idee O dal loro Credo politico E questo è quello E questo è quello Che non avviene Nel capigruppo Nel capigruppo I consigli comunali Ci sono molti ritti In questi appuntamenti Che si sovrappongono Tra loro Quindi prima di tutto Il consiglio comunale Per i monogrufi È un luogo postile Perché in molti casi O smetto di mangiare O non posso seguire Tutte le commissioni E questo è proprio Uno dei primi problemi Partendo dall'attività Istituzionale Ora analizziamo Un po' Le sedute E i consensi Dove Mi trovo Normalmente In una settimana Partendo dal Consiglio comunale Ovviamente Quali sono le attività Principali Del Consiglio comunale Essere presenti Ovviamente È una banalità Ma adesso Con un video Vi chiedo Perché è specifico Questo carattere Seguire il dibattito Presentare mozioni Orgine del giorno Articoli 21 Gli articoli 21 Sono degli interventi Di 5 minuti Liberi Su cui un consigliere Può porre L'attenzione della seduta O di chi lo segue Purtroppo Che di solito sono pochi Un argomento Di che Revitare Rilevante Preparare Indimamente Le delibere Come vedremo dopo È uno degli unici Strumenti operativi Che abbiamo In comune E ovviamente Le dichiarazioni di voto E poi le votazioni Qui Questo è l'elenco Presenza Del consiglio comunale Ho una presenza Del 100% E la votazione Il numero delle votazioni Che ovviamente È molto Lievemente diverso Non ho ancora Come dato Ma sarà Più interessante Della presenza In quanto C'è questo giochino In cui basta Fare metà Consiglio comunale Per avere la presenza Quindi per molti Iniziamo il 13 Circa dei 50 Che hanno il 100% Però sarebbe interessato Ad andare a vedere Quante la percentuale di votazione Effettivamente parte E questa potrebbe essere Una delle nostre prossime battaglie Ovviamente Avere il dentone Solo se si lavora Più del 50% Magari Un'altra caratteristica È rimanere fino in fondo Qui era alle 5.30 di notte Durante uno dei Dei mistici Consigli Che hanno fatto Quattro L'after hour I vari gruppi Che contano più persone Riuscivano a farsi il cambio Quindi uno sonnecchiava L'altro tornava a casa E purtroppo ero lì da sole Siamo stati Siamo stati la notte Insieme a Gabriele e Claudio A portare avanti Gli unici Che da soli Hanno fatto tutta la tirata Questo è un breve video Che Fastiga un po' L'atmosfera Che c'è in consiglio In questo caso Siamo stati Dobbiamo Ecco qui Sarebbe Un momento di intervento Molti consigli A che parlano, nonostante, nonostante, credo che abbia abbastanza l'idea dell'atmosfera che c'è in consiglio. Faccio qui un'altra premessa veloce sulla partecipazione, un po' sul rapporto con la giunta, preferisco farlo qui perché il consiglio comunale è uno dei luoghi dove proprio veniamo in contatto, dovremmo lavorare assieme, ma di fatto questo non è possibile e questo è stato un grandissimo limite, dalla giunta Pisantia e dalla giunta Ragione ci si aspettava una grandissima possibilità di partecipare e di fatto come posso vedere tutti i giorni questa non è possibile, anzi la maggior parte delle decisioni ci vengono presentate con una delibera il giorno prima, quindi in molti casi non è possibile partecipare né chiaramente lavorare insieme. Quest'ultima immagine è una votazione, il tabellone delle votazioni in particolare era il tabellone di Expo, dell'accordo di programma di Expo 2015 dove ricordiamo l'unico voto contrario insieme al Presidente del Consiglio Comunale e della sua compagna di partito erano stati gli unici contro a questo accordo di programma, ovviamente è una delle votazioni più importanti e più significative dell'esposentimento in quale andare proprio contro gli obiettivi che si erano posti in campagna elettorale da parte della giunta. Passiamo ora alla conferenza dei capigruppo. La conferenza dei capigruppo di fatto è una riunione che non ha molti poteri, ha l'unico potere quello di potere d'agenda, scegliere cosa verrà discusso, quindi ovviamente anche qui essere prendenti, approvare lo DGTI dei consigli e comunicare le nostre priorità. Ovviamente qui siamo in ignoranza, quindi molto spesso le nostre proposte non verranno discusse. Ed è qui un punto fondamentale. Noi ad esempio abbiamo una delibera per quanto riguarda la gestione pubblica del servizio iterico integrato che abbiamo consegnato più di sei mesi fa. È già passata in tutte le zone, ha compiuto il suo iter ma non è mai stata discussa. Anche questo riguarda proprio il potere d'agenda, l'interiorità delle nostre o quelle dei gruppi consigliari anche a tutela delle minoranze oppure quelle che interessano e che sono meno scomode. Allo stesso modo abbiamo una delibera per la costituzione delle consulte cittadine, quindi per acquare la democrazia partecipativa che già c'è anche lei in questo obbliglio dei documenti presentati e uno sulla rete ciclabile strategica. Molto importante per il prossimo sviluppo delle liste ciclabili, anche quella lì consegnata e mai discusse. Io più di chiedere tutte le volte che vengano discorsi questi documenti, purtroppo non posso fare. Commissioni consigliari. Le commissioni consigliari sono un'anomalia del nostro comune. sono 18 fisse, più adesso avremo la commissione antimafia 19, più le sottocommissioni, che sono vari organi delle stesse commissioni, più i gruppi di lavoro. Ovviamente qui è uno dei problemi più grandi che abbiamo essendo con un consigliere solo a Palazzo Marino. Di fatto, per capirci, la regione Emilia-Romagna ne ha assai di commissioni. Noi ne abbiamo più della Camera del Senato. E questo ovviamente per un singolo consigliere è davvero difficile da seguire qui. Una mia richiesta, proprio aiutami a condividere con voi le commissioni. i cittadini possono partecipare, nonostante non sia molto diffusa questa notizia, possono partecipare, ovviamente, da osservatori. Non si può votare, ma anche della sola presenza ci permette di coprire più commissioni di quelle che da solo non riesco a fare. Quindi qui magari possiamo parlarne più a tutta e più dopo. Anche qui lavoro di presentazione progetti e di audizioni di esperti. In particolare abbiamo portato un progetto per quanto riguarda la rete Internet del Comune con l'Expulti. È stato un esempio di come si possono portare esperti all'interno delle commissioni. Ovviamente anche lì il punto di domanda è ci ascoltano? Forse sì, ma sicuramente non danno visibilità alle nostre osservazioni. Uno dei comportamenti che si nota per esempio sul bilancio, quando gli chiediamo la coerenza sull'utilizzo degli organi di urbanizzazione o sull'equipettimento con nuovi mutui, la risposta che utilizziamo è nessuna risposta. Darci meno visibilità possibile, anche senza darci una risposta in Consiglio Comunale. Altra attività ovviamente meno operativa, quindi ci interessa tra virgolette meno, ma che comunque faccio come consigliere, è l'attività di rappresentanza. Abbiamo la strage di Barestro, la cittadinanza onoraria a Sabiano, gli ambrugini d'orso. Anche questo fa parte della vita del consigliere. E presto, come da nostra delibera approvata, ci sarà anche la cittadinanza onoraria a Pino Maceri, che abbiamo chiesto per una delibera di iniziativa consigliare. Gruppo consigliare, il luogo dove lavoriamo. Si trova in Via Marino 7, sono due piccole stanzette, una mia e una di Silvana Rezzani, che è un intervento del Comune che lavora insieme a noi e ci aiutare per i documenti. Di fatto queste stanzette vengono utilizzate per l'ascolto dei cittadini, per l'elaborazione dei progetti e ovviamente come segreteria logistica. In particolare, per quanto riguarda la mia attività, si predispone tutto quello necessario per il futuro del consiglio. Ovviamente il Consiglio Comunale di Milano ha una vita molto frenetica. I consigli comunali, prima di tutto, sono due a settimana, per ognuno di una durata di quattro ore, probabilmente possono essere all'altranza. E in ognuno di questi consigli ha una media di tre delibere. Quindi le delibere, considerando che sono di 40-50 pagine l'una con gli allegati in media, io mi trovo più o meno ad ogni consiglio 100-150 pagine solo di delibere nuove. E a volte passano in commissione, a volte se sono commissioni per esempio sovrapposte da capigruppo non posso seguirle e quindi c'è un lavoro di preparazione che dovrebbe essere condiviso per essere il più identificato possibile con tutti gli attivisti e gli esperti dei vari settori, che è fondamentale per massimizzare il nostro effetto in comune. Ma poi con una slide apposta vi farò vedere poi il flusso di lavoro ottimale per il nostro gruppo di segnale. Micro parentesi sui dossier. Cosa intendo con i dossier? Quando trattiamo una... non essendo ovviamente io esperto di tutto, ma è impossibile, serve un'operazione da parte dei tecnici di stendere un dossier per quanto riguarda per esempio una delibera di bilancio, come facciamo con Claudio e Gilda. Nel dossier, tra virgolette, cosa c'è prima di tutto? Un'analisi della delibera, ad esempio. Un rendere comprensibile sia a me come non tecnico, ma anche ai cittadini. Poi la dichiarazione di voto, i documenti per seguire il dibattito, nel caso per controribattere a potenziali attacchi, gli emendamenti, che sono come noi cerchiamo di modificare la delibera della giunta e la dichiarazione di voto. Tutti questi elementi servono per affrontare il Consiglio di una delibera. Ovviamente, realizzando questo lavoro insieme a dei tecnici, come da movimento, tutti i volontari, riusciamo ad avere dei documenti di una precisione e di un livello in molti casi superiore a quelli degli altri gruppi. E questo proprio perché facciamo rete. Di fatto, ogni professionista può dare la propria esperienza gratuitamente. Questo è un risultato molto interessante. Workflow, flusso di lavoro. Io ho cercato di prendere un esempio che è stato un emendamento alla delibera cosa, che era quella sulla tassa dei tassi carnai e sulla tassa per l'occupazione di suono pubblico, ripercorrendo un po' i percorsi che ha fatto per essere discussa. Prima di tutto, parte dal gruppo consigliare. Abbiamo fatto la scansione di questa delibera, anche con 50 pagine o con il diario, anche molte di più, scannerizzata, inviata in pdf e pubblicata sul dbworks. Sul dbworks questa delibera ha ricevuto 42 commenti e due proposte di emendamento che poi sono state sviluppate e trascritte. E poi sono state ovviamente passate al consigliere. Questo per far capire un po' cosa intendiamo per terminale e come un cittadino deve poter interagire con me. A questo punto si è discussa in rete, si sono prodotti due emendamenti e me ne avete passati. Ora inizia la parte divertente per me in comune. Una volta che ho ricevuto questi due emendamenti, che erano in particolare uno per quanto riguarda la possibilità di dare la tassa dei passi carrai solo per i passi carrai di fatto con i paletti di lato, che non consentano ad altre macchine di utilizzarlo per parcheggiare sul marciapiede, ad esempio. E l'altro per avere uno sconto sui mercati o le occupazioni di suono pubblico che tolgono il loro gruppo elettrogeno per avere la corrente e lo sostituiscono con un impianto di microgenerazione. E questo era uno sconto sulla tassa, ovviamente, per quanto riguarda il risparmio energetico. I passaggi sono, da una parte, io come consigliere vado all'ufficio dell'occupazione suono pubblico e inizio a parlare con i tecnici su come di fatto attuare questi, perché dalla parte in cui li abbiamo prodotti in rete parte la fase istruttoria, la fase in cui si rendono queste proposte attuabili, prima di tutto dal punto di vista tecnico insieme alla segreteria generale, che ci dà il parere di legittimità, se va bene con le leggi che abbiamo in minore. E dall'altra parte dall'ufficio dell'occupazione suono pubblico invece c'è proprio una discussione in merito al contenuto dell'emendamento. L'ufficio dell'occupazione suono pubblico cosa fa poi? Ci calcola l'impatto e il bilancio in particolare dell'emendamento sullo sconto per chi prende un impianto di microgenerazione da fonti rinnovabili, dall'altra parte il parere tecnico, che nel caso di questo emendamento era stato, va bene se lo fanno scendere al 10%, perché era più alto, e nel caso del parere tecnico ottimo, ovviamente parametrato al 10%, noi credevamo un 50%, ma ovviamente non era più compatibile con l'impianto totale della delibera. Dall'altra parte la segretaria generale ci dà un parere di irregolarità per quanto riguarda l'emendamento delle fonti rinnovabili, mentre ci dà l'illegittimità sull'altro elementamento, quello dei parchi EG solo per chi di fatto utilizza il passo carraio, quindi fare pagare il passo carraio solo a chi lo utilizza e non in caso questo possa essere utilizzato per partecipare sui marciapieni, infatti c'è l'elettorale è legittimo perché è il contrario al codice della strada, e quindi in questo caso non poteva essere utilizzato nella delibera. Quindi questo si ferma, continua quello che ha i tre pareri positivi, quindi off con riduzione al 10%, perché così da calcolare un bilancio insieme agli uffici, positivo il parere tecnico e legittimo. A questo punto si va in consiglio comunale, parte la votazione della delibera, parte la discussione della delibera, al termine della discussione in cui ogni gruppo può fare delle domande all'assessore che presenta la delibera, si passa alla presentazione dell'emendamento, in cui abbiamo 5 minuti, alla votazione e poi in questo caso fortunato vittoria, infatti questo sconto per la microgenerazione ha risultato una grande innovazione per il diario di cosa. E questo era più o meno un esempio di come funziona il flusso di lavoro, come tutto questo è possibile solamente alla condivisione preventiva di questa delibera. Tutto questo non sarebbe mai stato possibile se la delibera è stata consegnata solo dopo la votazione, come avverrebbe sul sito del comune, la delibera viene pubblicata dopo la votazione e quindi questo impedisce la partecipazione del cittadino. Tutto questo rimane possibile proprio per la pubblicazione su internet preventiva ed è lì che dobbiamo concentrare i nostri sforzi per rendere discutibili e proprio implementabili con evidentemente tutto le delibera che passano in consiglio. Finiamo ora l'attività istituzionale e andiamo a parlare del consigliere 5 Stelle, un po' cosa ci differenzia nel modo di fare politica dalla vecchia politica, tra virgolette. Prima di tutto internet. Internet è un luogo di scambio continuo, un politico che sta su internet è in continuo scambio e in continuo messo in stato d'appusa, quindi viene controllato dalla rete, proprio perché c'è un canale bidirezionale. In particolare l'uso di Facebook, di Twitter e del canale YouTube sono i luoghi dove pubblico più materiale. La pagina di Facebook ha circa 8.000 fans e questo mi permette su ogni argomento cui chiedo di fatto un parere o pubblico di avere molti punti di vista e sicuramente anche molte critiche in quanto giustamente è un luogo anche di messa in discussione di quello che facciamo. Twitter allo stesso tempo è stato utilizzato prevalentemente per la diretta in tempo reale del Consiglio Comunale con il tag Consiglio Milano e anche lì è interessante dare questo strumento di stream, di informazioni durante proprio la seduta del Consiglio mettendo anche all'interno del tweet, per esempio il PDF della delibera, quindi una persona che ti segue sa che in questo momento sta venendo discussa questa delibera, apre il tweet e si trova dall'unità davanti e quindi con questo riesce a seguire il Consiglio Comunale capendo di fatto cosa sta venendo. La rete del Movimento 5 Stelle è ovviamente un elemento qualificante del nostro lavoro è mettere in rete tutti i progetti, tutte le delibera, le emozioni, le interrogazioni che di fatto scriviamo e allo stesso tempo condividere con gli altri consiglieri del Movimento e gli altri gruppi del Movimento il lavoro positivo che a loro volta fanno e questo è proprio mettere in rete tutto il materiale che facciamo e condividere tutte le situazioni positive con le altre città. Anche qui il rapporto del BILI nazionale e ovviamente con i cittadini. Con i cittadini il discorso è quello fondamentale, la nostra stessa natura, il motivo per cui il Movimento 5 Stelle esiste, il dare una possibilità al cittadino qualunque, al cittadino normale di entrare nelle istituzioni, allo stesso tempo di avere un rapporto con le istituzioni che non dipenda dal credo politico, dalla possibilità di essere all'interno di un partito, ma proprio di avere un gruppo consigliare che gli da un servizio, è quello di portare la propria voce all'interno delle istituzioni. Entrare nelle istituzioni e soprattutto spiegarmi i meccanismi, aprire anche le parti interne in comune, aprire il governo della città, i cittadini vuol dire renderli in grado di entrare nelle varie fasi e questo lo vedremo per esempio per quanto riguarda le nomine, le nomine delle municipalizzate che è una delle nostre battaglie. Questa delibera che è stata proposta da Unida per esempio prevedeva che tutte le nomine, tutte le proposte di candidature delle municipalizzate mandate dai consiglieri sarebbero state preventivamente pubblicate su internet per poi essere vagliate da questa consulta dei saggi che sono i saggi che scelgo in base ai requisiti e ai turriculum delle persone da nominare e infine il sindaco che è la nomina. Questa era l'idea di Unida che è stato scelto dal SITAC come responsabile della trasparenza e ovviamente è un ottimo progetto in fatto, renderò visibile tutte queste nomine. La quale maggioranza in particolare PD ha tolto proprio questa parte, la parte iniziale di trasparenza, quella dove tutte le nomine vengono pubblicate, lasciando solo quelle che sono già state vagliate dai tecnici. anche qui rompi un percorso di trasparenza, togliendo uno degli snobbi. Tu devi poter controllare anche gli stessi tecnici, come selezionano tutte le nomine, come viene fatto questo passaggio. Ovviamente questa è un'altra battaglia, voglio tenerli con che coraggio la porteranno in consiglio una cosa di questo tipo, ma non credo si faranno molti problemi. creare spazi informativi e informativi, poi magari ne parleremo meglio dopo il mio intervento. Una delle idee prima di tutto è creare incontri scadenziati per quanto riguarda prima di tutti i consiglieri di zona, come già facciamo, un incontro mensile dove ci mettiamo in rete anche noi le proposte positive, e allo stesso tempo un altro incontro mensile dove possiamo fare un po' di, tra virgolette, formazione per cittadini antivi. Quindi per esempio un esperto di bilancio può farci una lezione su come analizzare il bilancio, io posso mettere a disposizione le competenze che in questi sei mesi ho acquisito, e ognuno può, di fatto questa è un po' l'idea della pluriversità che esiste già nel gruppo del movimento di Napoli e di Palermo e che magari poi approfondiamo in questa riunione. Trasparenza, ovviamente anche questo è un comune denominatore del consigliere, tra virgolette, del movimento del nostro modo di fare politica. Ci viene bene abbastanza in modo naturale, tanto che non dobbiamo impegnarci troppo a essere trasparenti. In questo caso per esempio, ovviamente il titolo è sempre tra e sempre in inganno, in questo caso io come faccio la lezione universitaria registro sempre le riunioni, nel momento in cui mi era stato chiesto un resofondo di una riunione di quelle premessa. In consiglio comunale hanno questa prassi, insomma tutti quelli lunghi, di interrompere il consiglio comunale e trovarsi nella saletta dietro per trattare in privato. Ovviamente la prima volta che l'ho fatto è rimasto con due occhi così, perché interrompeva la diretta streaming in consiglio, quindi con il criterio di pubblicità e tutto per trattare dietro. Anche qui, trasparenza, quando sono tornati io ho chiesto al presidente del consiglio di motivare perché era stata interrotta la seduta e poi di fare una relazione di quello che era accaduto. E la cosa interessante prima di questi episodi in particolare, che gli ha dato così fastidio, in parte hanno smesso di fare queste riunioni e in parte tutte le volte che poi sono tornati a parte del presidente, che poi ha chiesto anche la presenza dei gruppi minori a questi incontri, hanno sempre fatto il resofondo in consiglio, quindi anche qui non c'è stata nessuna delibera, nessuna mozione, ma gli ha dato così tanto fastidio la possibilità di far sapere quello che accadeva realmente durante la seduta che stanno smettendo di farlo, perché troveranno dei spazi. In questo caso, abbiamo ancora chiesto nuovamente al presidente di fare una relazione di quello che era avvenuto a porte chiuse dietro il consiglio. Il PDL mi ha provocato, tiene il fatto, allora Calise ce la faccia lei la relazione. E io ho detto, posso far di più, posso mettere a disposizione delle registrazioni, delle riunioni, e lì ovviamente il putiferio è tutto, mi dicevano la denuncia penale, solo intercettazioni ambientali, ovviamente senza sapere che le intercettazioni ambientali vengono fatte in sacuda, io in quel caso ero un interlocutore e come tale posso prendere appunti, posso registrare tutto ovviamente per avere memoria del materiale. Ah, tra l'altro pochi giorni fa, come si chiama Tagliuca, consigliere del PDL, mi ha chiamato, mi ha fatto vedere un video su YouTube, ma c'è ancora questo video, perché Claudio ha pubblicato il video perché ha vergogna che fanno le riunioni chiuse, le registrazioni, e Pagliuca mi ha detto, ma sei ancora Calise, cos'è com'è che togliamo ancora quello, non vorrei che riportiamo la questione Calise, quindi le registrazioni in consiglio, tipo quando ho parlato di minaccio, gli ho detto, ma voi avete chiesto un parere della, come si chiama, della bocatura comunale, io lo sto aspettando, loro in realtà non l'ho mai fatto perché sanno benissimo di perdere se fanno una cosa di questo tipo, ovviamente cercano di morirti. Un altro caso sempre relativo alla trasparenza è stato il comunicato stampa sui legati di Natale della Giunta, anche lì erano i finanziamenti alla cultura, circa 5 milioni e mezzo, che sono stati fatti il 30 dicembre, mi sembra. Ovviamente questo comunicato stampa è risultato molto perdito ai giornali e il giorno, per esempio, tra questo articolo ha pubblicato due pagine intere con proprio la spiegazione di questi finanziamenti. Ma la cosa più forte è che questi documenti erano già pubblici, ma difficili da trovare, e anche qui è uno dei nostri compiti a rendere pubblico quello che in realtà è già pubblico, solo rendendolo più fluido alla telecittadina. Entriamo qui un po' nello specifico degli strumenti di lavoro che abbiamo. Accessi agli atti. Come consigliere comunale e come ovviamente gruppo di lavoro, gruppo consigliere, abbiamo accesso a tutti gli atti del comune di Milano. Oltre a questo possiamo chiedere di poter visitare qualunque spazio che abbiamo fatto con la centrale di polizia, con l'automercato e con altre situazioni dove possiamo andare a valutare fisicamente lo stato delle strutture o cose di questo tipo. Interrogazioni. Interrogazioni sono dei documenti scritti in cui chiediamo una serie di o documenti o informazioni o parere o qualunque domanda all'assessore competente e agli uffici competenti. Hanno 30 giorni di tempo per risponderti, dopodiché devono passare in consiglio. Quindi ci sarà una seduta. Sono obbligati a portare in consiglio la risposta. Noi delle decine di interrogazioni che ne abbiamo fatte ne abbiamo sei che non hanno mai avuto risposta. Io adesso ho preso in consiglio spiegazioni e ovviamente credono di poter rispondere. In questo caso, oltre ai solleciti che manchiamo continuamente via me, potremmo iniziare con le vieture dato che se questo è il comportamento che credono di poter tenere per i prossimi anni, si sbagliano di grosso. Mozioni. Sono documenti in cui impegniamo la giunta a fare qualcosa. Le mozioni, in realtà tutte quelle che abbiamo consegnato non sono ancora state discusse, quindi ho poco da dire purtroppo. Aspettiamo quella sulla inciclabile e quella sulla democrazia partecipativa. Delibere. Le delibere sono i documenti che la giunta ci manda da approvare, tra virgolette da ratificare. Abbiamo anche la possibilità di fare delibere di iniziativa consigliare. Ovviamente abbiamo delle competenze molto ridotte relative o alle municipalizzate e ai loro regolamenti o al regolamento costituito del comune. Quindi sono principalmente modifiche che come consiglio facciamo al comune. Sono documenti molto più complessi sia delle delibere che delle interrogazioni e infatti ne abbiamo scritte tre per ora e in tutte abbiamo collaborato molto con l'ufficio deliberazioni di iniziativa consigliare. Sono praticamente tutti i consiglieri che hanno collaborato con questo ufficio perché di fatto l'opposizione, quindi alla lega non ne fa. Perché sono... non lo so. La maggioranza non ne fa perché aspetta quella della giunta alla fine si è stati lì cominci a fare delle delibere di iniziativa consigliare come quella di Pino Mascheri per la cittadinanza onoraria oppure quella dell'acqua che prima o poi verrà riscussa e adesso poi c'è una sorpresa che viene tutta la fine che sono quasi le delibere a pronta, è molto importante. Quindi l'eventamento. L'eventamento, come e come non è, è l'unico strumento che funziona. Vuol dire modificare una parte di una delidera che la giunta fa passare dal Consiglio Comunale perché è obbligato e non ci scattano. Se per accessi agli atti ogni tanto sforano i credibili, se per le interrogazioni a volte non ci rispondono o rasentano comunque il terzo giorno, seguono le mozioni, c'è una lista della tela di 60 mozioni che sono state depositate proprio per rendere questo strumento non utilizzabile e non pratico perché ci sono le prime che sono in attesa anche loro da sei mesi, le ultime magari sono state consegnate due settimane fa e chissà quanto erano scorse. Gli emendamenti li possiamo fare sempre in qualunque momento perché loro sono obbligati alla possibilità di passare dal Consiglio e lì viene bello. Lì per esempio si è venuto a fare quello per la gratuità dei trasporti delle ricci sulla rete metropolitana durante la delidera sui biglietti di ADM oppure l'eventamento sulla cosa di prima sul risparmio energetico. I progetti, adesso prendendo un po' il documento, il progress, il fantastico progress che Eugenio va tracciando tutti i documenti, tutti gli altri, tutti i comunicati che facciamo ho spilato un po' gli argomenti che abbiamo trattato in questi sei mesi partendo proprio dall'ABC. Vedete sotto ci sono delle lettere che però non si vedono, che è dall'ABC. Amianto, antimafia. Amianto, durante i primi mesi dopo la pausa estila, settembre-ottobre abbiamo concentrato con degli accessi agli atti e con delle interrogazioni la situazione dell'Amianto ed è stata una delle nostre battaglie. L'antimafia ovviamente che abbiamo, sia con la battaglia per avere una commissione antimafia che domani dovrebbe essere votata, non basta proprio esattamente come abbiamo chiesto ma di fatto è una versione un po' addolcita dalla maggioranza. Poi anche con la cittadinanza onoraria e mascheri. B, bilancio e spendi il review. Insieme a Claudio e Gilda prepariamo delle belle cannone a tetapaci ogni volta che ci passa o il bilancio previsionale o le tustonenti ed è stata una delle belle battaglie. Spendi il review in particolare era la promessa elettorale di Tisabia. Ora, rifacciamo il bilancio e rifacciamo il partecipato in modo di analizzare la spesa. Quindi dove ci sono gli spetti insieme ai cittadini e insieme ai consiglieri. Morate, i cittadini non se ne parli ma insieme ai consiglieri abbiamo potuto partecipare all'aspetto. C, civiche scuole separitari. Un'altra battaglia che abbiamo sostenuto e che sosteneremo ancora per la reattivazione di questi corsi. E questo è tutto il consumo di suolo. Il consumo di suolo è un'altra delle promesse elettorali dove battiamo cassa, dove una delle armi più forti che abbiamo è proprio il programma di Tisabia. E qui da ora sono stati, a parte di due giorni, sì. Tre giorni fa è stata di fatto accettata una modifica di programma delle Torri Garibaldi, il palazzo della regione, l'altro palazzo più alto d'Italia. Anche lì è mancato totalmente un'opposizione a questo modo di fare. È stato, ma sì, cambiamo un po' la destinazione d'uso di 12.000 metri quadrati, incassiamo un altro pavione, ci va bene così. Lì purtroppo era da salvare salvabile, al contrario, ma non si è vista l'ombra. Sempre con i progetti di Digital Divider Milano, con la battaglia che facciamo con Alex, per risparmiare questi 20 milioni che ogni anno vengono buttati con questo contratto assurdo con i comuni di Città come Sines per la rete informatica del Comune di Milano, di democrazia partecipativa, sia con il bilancio nelle zone che stiamo portando avanti, sia con questa nozione in cui chiedevamo l'istituzione delle consulte cittadini, che è anche lì in attesa, e la digitalizzazione dei comuni di Milano. Lì è proprio un lavoro che un po' mi sono dato a disposizione gratuitamente con gli uffici, quello che vuoi spiegare, guardate la VRT streaming, la potreste fare in questo modo, è gratis, la posta elettronica certificata la potremo usare per fare le comunicazioni, però anche lì ci sono molte esistenze. Tutto viene ancora fatto su carta, infatti il primo passaggio, se ne vi ricordate, era la scansione, perché i protocolli vengono ancora fatti su carta. Questo è uno dei passaggi assurdi del Comune di Milano. Allo stesso tempo paga 50 milioni all'anno per le leggi informative. Expo. La votazione di prima è indicativa, l'accordo di programma stilato sotto la morafia è stato approvato, di fatto senza alcun vincolo, perché le piccole modifiche che la Giunta vi ha chiesto per una mozione non avranno vincoli legali per gli altri partecipanti in particolare alla Regione, che è fatto come fornivore il Commissario. Expo, ovviamente, sarà una delle battaglie che ci corperemo avanti per i prossimi anni, per poi passare alla mobilità sostenibile. Anche qui, sia con l'emendamento sulla mobilità ciclabile, l'unica mozione che è stata approvata era quella per la pubblicazione sul sito del Comune e del manuale di sopravvivenza del ciclista, che era un documento del Comune di Reggio Emilia, fatto insieme a Ciclopi e altri esperti, che, implementando, quindi aggiungendo al codice della strada, alcuni accortezze proprio per il ciclista. Per esempio, non guidare di fianco alle macchine parcheggiate, perché ti apre una quartiera, tu cerchi di evitarla e come purtroppo è successo al ragazzino, poi vai sotto le macchine che sono a sinistra e ti sorpassano sulla sinistra. Questo è un altro documento che stiamo ancora aspettando, dall'assessore del capire di incarico questa mozione, dato che era stata approvata la modalità, ma anche lì nessuna risposta, nessuna, al dobramico dopo l'approvazione. Nomine delle municipalizzate. Questa sarà una battaglia che ci porteremo, su cui tratteremo presto. Abbiamo fatto un sacco di accessi agli atti negli scorsi mesi, proprio per capire di fatto come avviene la spartizione e soprattutto se la nuova delibera, perché nel programma di Pisapia c'è proprio che cambiamo le modalità di nomine nelle municipalizzate, apriamo i cittadini e facciamo proprio verificare ai cittadini chi di fatto verrà eletto. Al contrario, purtroppo, la risposta della maggioranza è, in particolare, ancora una volta dal PD, è disastrosa. Abbiamo sconito che ha portato questo progetto valido, la maggioranza che lo smonta sistematicamente e, per esempio, in un momento in cui c'eravamo in commissione stavano parlando dei trombati, quindi delle persone appartenti alle liste che molto spesso vedono candidate come premio nelle municipalizzate. e anche lì, nonostante poi un IDA abbia detto che in questo documento non possiamo fare niente, sia PD che PDL erano subito scattare no, no, ma assolutamente, non è un privilegio questo, devono poter, non è che una persona valida. Di fatto anche lì, perfettamente d'accordo nel candidato dei trombati che avevano cittadini. Oppure, ancora, e questo è stato in una commissione qualche giorno fa, si parlava di mettere l'incompatibilità per chi è consigliere o assessore o provinciale o regionale, con la candidatura delle municipalizzate. E lui ha detto, scusate, se una persona va a candidarsi e ha detto che il cliente ha detto, prima di farlo può farlo benissimo, ma si dirette. E anche lì, no, assolutamente, lasciamogli la possibilità di scegliere. Facciamo che può essere nominato, poi, se viene nominato dal sindaco, a quel punto gli lasciano la possibilità di scegliere se continuare a fare il consigliere o l'assessore oppure andare nelle municipalizzate. Questo è assurdo. E poi, cercando nel loro programma, ho trovato che c'era l'adesione al documento europeo per l'eticità degli amministratori locali dove c'era scritta la stessa cosa opposta. Cioè, assolutamente non fare un discorso di questo tipo. E la commissione è finita con il presidente che mi ha chiesto, ci fornisca una copia di questo documento? Io ho risposto, l'ho preso dal vostro programma. Sì. Occupazione con il voucher sul lavoro, questo lavoro che abbiamo fatto insieme a video, insieme al gruppo di lavoro, con degli accessi aiati per valutare se questa operazione che era stata fatta durante l'estate aveva di fatto avuto successo che era funzionato in quel momento. Ieri abbiamo scoperto una serie di cose curiose e in particolare che il servizio era stato un flop clamoroso. infatti sono 24 richieste, c'erano state di questi buoni per assumere durante l'estate per tenere aperti i negozi. Anche qui, tutti i documenti per approfondire ognuno di questi li trovate su internet con tutti i record. Ultima pagina. Piano Parcheggi. Anche lì una delle opposizioni è stata nel piano di intervento integrato. Qual è quello scandaloso? Quello di Zalanti al cimitero monumentale anche lì che è stato verrà battuto uno storico edificio dell'Ener che voleva essere salvato. In questo cambio metteranno un albergo e una piazza a uso pubblico e soprattutto un parcheggio sotterraneo. Scusate in campagna elettorale avete promesso stop ai parcheggi in centro perché apportano le auto alle auto di più traffico e le facciamo lasciare in periferia. Anche lì ha provato un nuovo piano. Con questo mega parcheggio e la piazza sopra quella che ti vendono come la mitica piazza verde a uso pubblico in realtà solo sopra del parcheggio. Anche in quel caso unico voto contrario è lui. E risparmio energetico ovviamente come argomento di battaglia continua. La raccolta dell'umido anche lì ci sarà da divertirsi come alcuni attivisti che sono venuti a vedere la commissione in cui si presentava l'umido da quello che pare hanno dato degli obiettivi se possono salire è scesa. Anche lì ci sarà una bella battaglia. Pubblicità abusiva, scusate, grazie. Pubblicità abusiva. Ricordare a chi di fatto in campagna elettorale ha tapprezzato la città il ricompreso il sindaco con i Grazi e Milano che erano tutti abusivi se pagheranno oppure no dato che i partiti sono abituati ad avere questo condono, questo maxi condono di tutte le loro multe del periodo elettorale. è una battaglia in corso anche qui abbiamo fatto l'accesso agli altri per avere tutti i documenti, tutti i capitoli tutte le multe che i vari candidati hanno vedremo come se la Cava il sindaco ha promesso che pagherà il problema e vedere se faranno questo questo via libera per tutti che di solito fanno e gli sarà da vedere se manterranno la parola. Anche il sindaco mi sembra che ha 400 mila euro di multa. E ovviamente zero per gli leggi. zero per gli leggi sia a livello regionale che a livello comunale va perseguita come nostro sempre comune denominatore in particolare ricordiamo poi i primi leggini che ho ricevuto che sono i biglietti per i concerti dopo i primi che l'ho rifiutato non me li ho mandati e l'ufficio cerimoniale non me li ho mandati mentre gli altri consiglieri continua rinuncia pass accesso alle corsie pretenenziali ZTL anche qui ogni tanto cercano di biglietti ma no il consigliere deve poter andare alle organizzazioni di PN e forsevole delle ambulanze degli aziende PN deve poter andare in centro in luoghi per esempio ok ma abbiamo degli autos di servizio se devi fare questo prendi un autos di servizio e chiedi una organizzazione per tutti i cittadini. il parcheggio in Piazza Mela tutti i consiglieri hanno il diritto a parcheggiare il parcheggio in Piazza Mela di fare un prova a Palazzo Marino anche lì non si capisce bene perché però questo ci potrebbe venire tutte le autorazioni elettriche quindi no rinuncia alla tessera del Tlaxea perché poi ci sono tutte le municipalizzate anche loro che ti mandano il loro omaggio ovviamente per tenere i buoni consiglieri la tessera d'onore della fiera anche qui accesso gratuito tutto l'anno per il 2011 SEA che ne ha già mandato due quella del 2010 e quella del 2011 2012 per avere accesso ai privea ai privea di Nata e Malpensa e anche lì eravamo usciti con un articolo ricordando l'assurdità di questo e SEA risposto ma no è normale per i consiglieri insomma di qua di là non ci costa niente in realtà la tessera costa circa 1500 euro all'anno quindi sarà più carino che un consigliere nel caso l'ha fatto ah e l'ultimo una cosa ce l'ho mandato anche la tessera del bank sharing ovviamente a noi va di usarlo gli abbiamo chiesto dato che è nominale quindi per avere una tessera tu devi cancellare quelle esistenze che ti avevano mandato gli ha detto ok ce l'ha mandato ma me la paghiamo gli ha mandato 4 link per chiedere di potergliela pagare e per chi ha l'abbonamento annuale di 24 euro non ci hanno mai risposto allora gli avevano chiesto quella Fondazione FIERA cosa? 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 E infine slide finale prima di tutte le domande specifiche perché ovviamente FIERA ho passato velocemente un po' i vari miei argomenti università io continuo a studiare seguo i corsi e studiando scienze politiche credo che sia fondamentale continuare proprio per avere un supporto tecnico gli ultimi due esami che ho dato prima di Capodanno sono stati sistema politico italiano e analisi delle politiche pubbliche quindi io comunque lo faccio chiaro continuo a seguire perché a parte che mi dà strumenti è una conoscenza che in molti casi i miei colleghi non hanno e dovrebbero avere anche l'assoluta di non aver mai aperto per esempio il libro di scienza politica in alcuni casi ci si trovano delle informazioni dove rimangono anche un perplesso e l'altro sono proprio strumenti pratici che mi consentono di muoverli bene attraverso regolamenti e tutto anche qui lo considero proprio una parte della mia attività come consigliere del Mundo 5 Step proprio per approfondire continuamente Finito? bello domandolo io segno chi vuole fare domande quindi chi vuole fare domande magari per avere un po' se ci sono più attenzione però se dobbiamo gestire l'elenco che mi dice per cortesia il suo nome è il primo segno nessuno fa domande è stato un voto come dicevi no, come dice siamo un burocratico non siamo un burocratico non siamo un burocratico non siamo un burocratico vorrei sapere brevemente come dice il burocratico quando un cittadino ha un'idea che gli serve interessante da portare avanti cioè come cosa deve fare allora principalmente ok una cosa o usare la mail unica che è segreteria5stallemilano at gmail.com mi sembra basta mandare e poi si passa o in base al documento si rimanda al pgworks che è di fatto dove possiamo pubblicare la proposta e discuterla su internet oppure anche se a me è capitato qualcuno che mi mandasse una proposta sulla pagina di facebook anche lì semplicemente la prende e la riporto su pdworks o la mando a segreteria si ovviamente dato che se tutti autofinanziati se ci sono soluzioni multimediali informatiche che conoscete che possono aiutare tutto questo ovviamente non è utile quindi principalmente la mail e qualunque canale facebook o internet anche lì ricevo le richieste e tutto da casa chiedono i canali dei consiglieri di zona posso? certo scusa hai parlato del programma dei privilegi so che c'è una votazione in consiglio per ricordare i stipendi ai consiglieri eccetera ma come si è risolto poi come è andato a finire c'è un seguito per quanto riguarda il consiglio regionale si magari chiedo di chiamare Ettore che è il nostro espertissimo c'è anche il comune no il comune il comune come si chiama no il comune non c'è zero privilegi se volete parlo anche degli stipendi che non ho accennato prima gli stipendi da consigliere sono prima di tutto non essendo un dipendente del comune sono a identità praticamente ai il settore di presenza per le commissioni e per il consiglio in questi sei mesi li trovate sia sulla pagina facebook che il sito del puntimento gli stipendi sono usciti a parte dei miei mesi dove non c'è niente dove risultano 120 euro e altri mesi tra i millequattro e i mille nove in base alla partecipazione dei consigli e alle tante in cui c'erano anche un po' di casino dato che non ho richiesto di dire come si pensi cosa? Nordi 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 e su stipendio risulta tra i mille e sette circa ed è la parte su cui ho donato il dieci per cento per le casse per tenere un pò in vita le attività so che è sotto la soglia massima che è del 2005 con i confronti di tutti gli attivisti che lavorano per zero privilegi nel comune di Milano possiamo pensarci ovviamente o chiedere di togliere tutti i piccoli dati che hanno tipo Pasqua, sì e tutto oppure lavorare per gli stipendi degli amministratori degli amministratori dei dirigenti delle municipalizzate o nel caso del Sina, quelli di assessori che sono forse un po' alti perché partecipo fino alla fine quello sicuramente la proposta che divincola a stare il più possibile sia nel consiglio che nelle commissioni da fare subito adesso possiamo mettere subito in discussione su T-Words ma c'era anche una proposta implementata e anche riportata nell'ufficio e valutata perché bisogna conoscere perfettamente il regolamento per modificarlo in una maniera correnta prima cosa parlando del consiglio tribunale mi piacerebbe sapere sia le presenze sia le votazioni chi vota cosa chi si astiene il nome e chi vota contro perché ha fatto guardare il consiglio tribunale che vedo solo una delibera del consiglio perché in 6-7-8 mili quant'è che ci sia solo una delibera poi a vedere all'interno vedi solo chi si è astenuto non vedi chi ha votato contro due persone in vento sceggo io chi ha votato contro ma deve essere trasparente immediato per il cittadino sapere chi cosa vota e chi partecipa poi adesso mi stai cercare a te e a dentro lo credo a te come portavolo se si potrebbe fare qualcosa allora una delle prime richieste che ho fatto proprio se esitai è di avere tutte le votazioni di fatto da quando ho fatto questa richiesta mi aspettavo una video o qualcosa così ogni volta in consiglio mi arriva una busta del consiglio del comune di Milano con dentro due fogli stampati e praticamente la macchina che usano per prendere i voti è solo per prendere l'analogica che fa questi fogli che sembrano fatti con un ciclo stile e ovviamente non sono neanche scannerizzabili perché sono due bagi che mi hanno messo incomprensibili in commissione referendum o democrazia diretta così abbiamo chiesto l'applicazione di una mozione che era stata approvata nella scorsa legislatura che prevedeva la messa e messa di tutto questo delle votazioni e tutto è già stata approvata nella scorsa legislatura ancora non ha fatto niente quindi in questo caso come può capitare nelle zone per esempio la zona 2 interessava una votazione su una costruzione nella loro zona sono andato in questo raccoglitore a cercare il documento ho preso nota e glielo ho mandato ovviamente dato che ci sono 6 votazioni 6-8 votazioni a consiglio finché hanno questo strumento del tubo è difficilissimo cerchiamo noi ovviamente sapere come voto una persona quando sta esatto una cosa che comunque proviamo a fare in questo momento è con la direzza twitter avere testimonianze in tempo reale non solo che mi stanno in 120 caratteri e mi viene tutti quei dire quando si diceva magari il nostro voto è negativo insieme a noi si è spesso così fisiogario esatto ma anche l'albero è esattamente l'albero dal voto è il pretorio che è uno strumento da altri tempi proprio lo usano solo perché sono obbligati per legge le cose e il bello è che la domanda che gli abbiamo fatto noi se ne è anche anche acappato dei radicali che fa questa battaglia da molto tempo di pubblicare quello che è già in digitale perché tutte le derivere tutte le votazioni di tutte le cose ci sono un livello di intervento del comune ma a parte che a me non hanno ancora dato l'attrezzatura per poter accedere alla internet le volte che devo aprire un documento e devo rientrare le scatole alla silvana della segreteria anche lì è volontà sia politica che degli uffici e anche lì purtroppo non è capitato a me quando c'era l'informazione uso un esempio per fare il rapporto del mi è iniziato una mia mia inchiesta stima sul montenegro e poi dire cosa c'entra il comune di Milano con il montenegro per esempio abbiamo scoperto che A2A ha fatto degli investimenti finanziari in montenegro e che sono un disastro astronomico io quando nei comuni ho iniziato a prenderci il comune di Milano e mi è iniziato e mi è iniziato e mi è iniziato ma scusate aveva bisogno del responsabile di Montenegro di A2A nessuno sapeva niente ho fatto 13 uffici 13 uffici diversi nessuno sapeva niente e dice no siamo a Milano cosa c'entra in Montenegro e viene da perché se davvero non lo sapevano o è un argomento che non va tirato fuori allo stesso tempo poi cercando su internet si è trovato Montenegro S.P.A A2A Montenegro S.P.A quindi anche lì il comune non ti dà nulla inoltre ricerchiture e anche lì è difficile sapere di chi potersi fidare perché gli uffici possono giocare solo con l'esperienza in molti casi anche con il S.P.A dipendente del comune che lavora nel gruppo consigliare in molti casi gli ho dovuto far rivedere io le norme tipo per gli accessi agliati e quando loro sono venuti a farti tornare in mieto perché se no loro comunque ci provano a non darti nei tempi che ovviamente poi con altri in cui ci lavoriamo stavio con quello delle interazioni iniziativa consigliare abbiamo un rapporto fantastico però in alcuni casi comunque è difficoltoso Mattia in questo caso non sarebbe meglio quando alzò nel ritardo che in questo caso non sarebbe meglio puntare tutto il corso non fondi cioè attaccare le pretenture e non c'è la cultura specifica sì per l'interazione per le interrogazioni a cui non abbiamo risposta il tredunesimo giorno da corso monforto e quarantacinta sì ho ricorso altavo adesso comunque facciamo capire che iniziamo ad avere una lineatura su questo perché comunque loro sono tenuti per legge a fornirvi perché se no si farà proprio la funzione del consigliere come controllore dell'amministrazione del consiglio comunale di Milano anche io un'altra cosa che si può fare quando si è rinco perché purtroppo quello è un altro problema è andare nell'ufficio e dire scusa dammi un attimo questo documento perché come consigliere loro sono ottenuti adatti la trattura al problema e gli uffici del comune di Milano sono poi tutta la città e non è il massimo della pratica adesso quando cimentificano Scalo Farini mi radovano tutto sì altre domande sul resoconto di Mattia allora beh comunque direi qualcuno l'ha già fatto noi abbiamo previsto nel punto successivo appunto dalla votazione di conferma io direi comunque insomma ci sono sono poste queste due punte dell'ordine del giorno ossia le domande sul conto di Mattia e la votazione di conferma stanno in fatto avvenendo i palli o le cose il punto successivo lo ricordo poi ci faccio parlare il punto successivo dicevo che ha detto all'inizio riguarda la partecipazione del movimento sul cui ancora qualcuno di noi manderà da qui in questo caso Renato quindi direi lasciamo ancora un punto un quarto ore almeno venti minuti per far terminare tutti la votazione perché con il pubblicato che proseguiamo con la giornata fa lo spoglio diciamo dei voti perché comunque alla fine di questa giornata anche se ci aspettiamo veramente tutti il risultato quanto sarà insomma però dobbiamo fare una storia dei voti e programare insomma il risultato di questa espressione si sono per zero privilegi per un'iniziativa regionale Ettore che deve scappare ha detto di controllare sul sito zero privilegi.it dove ci sono tutti gli aggiornamenti di fatto sulla situazione di come l'hanno di valida in sintesi mi sembra che forse tu vorrei sapere come è andata a finire ma in sintesi guarda l'iniziativa zero privilegi sai come è nata questa proposta c'è un problema un taglio radicale del costo dei consiglieri regionali più o meno del 50% del costo complessivo dei consiglieri regionali circa 10 milioni di euro che spavano anno di fatto poi se abbiamo risultato rispetto al Parlamento rispetto alla proposta a Pappamento pubblico legisitivo quale non è stata neanche messa in discussione io dico sempre che neanche l'imperatore non ci scusete questo cosa non può che lo sanno non avrebbe fatto una cosa del genere perché chi va a Vienna c'è stato recentemente e sono andato una delle nostre amici che lavorava lì e io sono andato alla residenza imperiale e gli spiegavano che ogni giorno l'imperatore per 68 anni si considerava il primo funzionario dell'impero che diceva 100 persone ogni giorno in qualsiasi condizione e i nostri parlamentari non hanno neanche preso scusate la divagazione in considerazione la legge di schiavo quale Parlamento pubblico che rimasta da 350 mila cittadini detto questo guardando le valli invece il consiglio generale Lombardo insieme magari sono più vicini a Vienna hanno accettato di prendere discussione la legge in incentiva formulare regionale zero privilegi di cui appunto Renato è stata quindi discussa però in sostanza con i soliti giri retorici politici hanno nascosto queste conclusioni ma di fatto hanno solo fatto un taglio il 10% dell'imperità e quindi molto distante dalle proposte delle leggi istituzionali quindi come tale la legge istituzionale regionale è stata bocciata perché non può essere evitata può essere solo accettata così come è stata presentata quindi è stata bocciata pochissimi giorni fa il 17 credo dicendo che fondamentalmente loro hanno già fatto il loro dovere i nostri consigli regionali hanno fatto a tagliandosi solo il 20% mentre il 10% preghesi pregheva un taglio del 50% del 20% del 20% del 20% del 20% del 20% la regolamentazione delle imposte spese sono come questo tipo è nata se hai andato o non è vivo tu ti sei nascosto di dire perfetto è un genio perfetto però diciamo si sapeva che non l'avrebbero accettata diciamo che questa legge a seguito in questa legge tutte le forze politiche hanno presentato una loro legge se non presentavamo questa legge non avrebbero tagliato neanche quel 10% e non solo a furia di fare pressione in commissione le commissioni loro come dire adesso hanno proprio un problema direi morale che si è posto soprattutto alla sinistra per cui continuano insomma hanno preso un impegno con l'ordine del giorno di continuare a discutere il tema quindi chiusa lì ma non è chiusa lì nel senso che poi si continuano ad andare nelle commissioni effettivamente a dirgli in faccia perché in quanto come promotore puoi andare nelle commissioni puoi anche parlare con tutto se no non puoi e quindi a dirgli in faccia certe insomma ci sono certi problemi che l'Italia sta a dei problemi per rimanere in Europa e quindi anche loro devono fare il loro sforzo per rimanere in Europa sempre che sia questa come dire una cosa positiva non lo so però insomma li dobbiamo fare quindi il punto di resistere in effetti sta portando piano piano dei risultati perché chiaramente sapevano che non avrebbero mai accettato e poi appunto è iniziata questa legge popolare in Bersinicata in Bolise in Sicilia hanno fatto una raccolta firme in Puglia adesso lo stanno organizzando in Campania nel Nazio e anche Emilia Romagna vuole fare una legge iniziativa popolare per questa roba qua alla fine inaspettatamente però bene perché la cosa nasce cosa appunto per il resto come dice oggi ci sono altre domande sì sì voglio fare una domanda mattina sul discorso di qual a quanto ha detto oggi è tutto vero ci ha parlato di una sorpresa finale che mi ha detto pronto ma e poi un'altra un'altra cosa oggi sono passati sei mesi dall'elezione quindi sei mesi a diritta consigliare e ogni sei mesi ci sarà la reconferma e quindi si sentirà gli altri attivisti e gli altri cittadini si trattano per un parere e si poserà e il movimento 5 stelle ha posto come limite quello di domandati per poter essere portavoce del movimento in modo volevo sapere questa è una domanda più personale ma che ci ha parlato dei tuoi studi di grazia che procedono in parallelo con più o meno in parallelo con l'attività consigliare saltando anzi in grado e dato che abbiamo limite di due mandati quindi massimo dieci anni cosa pensi così se devi immaginare la tua attività post consiglio quando lo sai per portavoce cosa pensi di fare grazie per la domanda penso che sia un'esempio fondamentale e riesco a parlare anche di dell'importanza di questi appuntamenti semestrati della riconferma come convento prima di tutto uno degli argomenti fondamentali io devo poter essere sostituito in qualunque momento e anche qui il mio invito è di seguire l'attività del gruppo consigliare adesso quando faremo la pluridiversità di venire proprio a scambiare informazioni pratiche su come fare il consigliere tutto proprio per questo io devo poter essere sostituito in qualunque momento ci sono un sacco di persone che mi stanno vicine che mi seguono in attività che potrebbero sostituirmi in qualunque momento proprio perché anche loro hanno subito l'attività hanno studiato insieme a me e questo è fondamentale proprio per non creare la casta politica non devi avere delle conoscenze che solo te hai allo stesso tempo per le due registrature esatto ci siamo dati 10 anni di politica attiva e poi basta io con i miei studi bella domanda io ho dei grossi punti di domanda proprio perché tra i prossimi 5-10 anni può cambiare tutto o non cambierà niente in questo paese che siamo in un momento molto interessante io comunque per i miei studi sia nell'analisi delle politiche pubbliche che è fatto nel lavoro da politologo che in Italia non è molto sviluppato non continuerò con molta attenzione gli analisti di politiche pubbliche che si lavorano in Italia vanno a lavorare all'estero anche lì speriamo di cambiare nei prossimi anni per anche una politica di qualità superiore e sì poi qualche punto di domanda ah una sorpresa scusate no esatto se l'attività del Consiglio Comunale è previsto che ha riparto seguiamo solo l'attività che fa aggiuntare gli strumenti che abbiamo non funziona uno dei lavori che ho iniziato proprio sei mesi fa è proprio perché è molto complesso è l'introduzione dello Statuto del Comune di Gnardo e il referendum deliberativo senza quorum e abrogativo questo seguendo insieme agli uffici questo lavoro da sei mesi che è davvero molto complicato e tra poco sarà pronta la delibera quindi questo sarà uno degli atti su cui ho lavorato di più e speriamo possa essere messo in votazione questo quindi è un nostro proprio uno dei nostri pilastri e speriamo vale in volto sì io tutto voglio ringraziare Mattia per l'iniziativa assunta appunto sulle riaperture delle ciniche scuole sui corsi serali appunto io mi ero fatto portato per la distanza e su questo appunto vorrei anche proporre passi in più analizzando il rapporto tra come tu dicevi e la giunta che si fa sostanzialmente gli affari soli io consiglio e quindi in molti sia che altre che anche che ho sentito in regale abbiamo visto come in realtà ci siano degli estremi di usurpazione che i consiglieri da parte della giunta proprio rispetto al problema della pianificazione del servizio delle ciniche scuole e quindi proprio che ho presentato la mia presenza del Consiglio Comunale per spingermi in questo senso e quindi credo che possa essere anche questo in generale non solo rispetto a risuone un elemento di approfondire nel corso di questi dentali la legislazione nazionale ha spostato molto sull'esecutivo sul sindaco sulla fonte i poteri defraudanti i consigli però all'interno di quello che c'è rimasto secondo me c'è proprio una tendenza eccessivamente decisionista che nasconde poi i problemi politici oggettivamente da parte della giunta perché in questo caso dare la riscrizione del Consiglio un piano delle scuole civiche vuole dire mentre in grave imbalazzo la maggioranza e probabilmente all'interno del Consiglio Comunale molti consiglieri di maggioranza non condividono un aspetto tra le cose che so che dire poi un'altra questione nel momento in cui si fa la battaglia rispetto proprio alla occupazione che soprattutto agli assessorati stanno distribuendo le enormità di consulenze forse anche utili non voglio dire però ovviamente in linea con la maggioranza precedente ma consulenze o le assunzioni ex articolo 90 adesso io l'ho detto così e non saprei dire di preciso probabilmente si parla le consulenze possono essere anche siccome progetti che io sapessi che come assunzione a tempo determinato si possono definire in questo modo e capire anche lì l'importo di spese il numero i compiti precisi sarebbe secondo me stavendo interessante all'interno di quella della trasparenza per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato i dati li dovremmo avere e sono circa 42 gli sembrano le assunzioni per più di 3 milioni di euro o l'altro mi sembra per le consulenze possiamo fare accesso agli atti su un titolo anche ma comunque le assunzioni esattivano una battaglia gli avevamo dato abbastanza battaglia il consiglio dato che il testo unico degli antilogali vince di non farle quando si è in difficoltà economica e dato che non spendono se a Sanità se si è in difficoltà economica anche lì hanno incontriato a Natale che hanno fatto altre sette per l'ultima punta e vogliamo ricordare tutti gli appuntamenti e come continuano in quattro settembre sono 642 assunti sarticolo 90 con l'altra parte i precari del rumore di Milano che sono finiti perché 100 e basta non li ha rinnovati 750 sono la stessa situazione e dall'altra parte li assumono i amici a casa hanno chiesto i contatti per i consiglieri di zona ciprisizione dove si trovano ho pubblicato il link alla pagina dei contatti mi ha messo in Milano in Toscano in zona 5 in Milano dunque l'ho scortato con piacere di aver reso conto devo dire che è stata una molla di lavoro contingente come sappiamo e con la collaborazione di tutti gli attivisti la mia sensazione è che nonostante i grossi risultati ottenuti probabilmente abbiamo ottenuto delle cose che nella storia politica di Milano non erano state ottenute penso che un grosso merito del Movimento 5 Stelle di Milano e non solo di Milano sia proprio di aver portato una chiarezza amministrativa o almeno di aver portato una mentalità nuova per cui bisogna rendere conto i cittadini e informare con efficacia i cittadini riguardo a tutte le attività amministrative del Comune tutte le cose tutte le attività principali vai? break out ok abbiamo ripreso tutte le attività eh sì devi parlare più piano o allontanare un po' ok così va bene dicevo tutte le attività che sono fatte degli assessorati e che normalmente invece vedevamo a distanza con i cittadini enorme però nonostante 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 dicevo questa nostra nuova mentalità da cittadini liberi siamo appena riusciti a scalfire quello che è la nomenclatura politica la diligenza che storicamente ha sempre amministrato Milano se consideriamo che tutte le volte che ci sono dei ruoli importanti magari questi ruoli vengono passati attraverso a volte raccomandazioni oppure attraverso diciamo percorsi di nepotismo non di meritocrazia questa è una cosa che sottolineo 50 volte addirittura abbiamo parlato di alcuni fondi che partiti o adora come tu dicevi prima sono stati portati all'estero ma secondo me è la punta dell'iceberg non ci rendiamo neanche conto cioè non riusciamo nemmeno a immaginare la quantità di denaro che da decine di anni probabilmente gli ultimi 20-30 anni secondo me sono stati peggio adesso ci ritroviamo alla schia di barine però secondo me abbiamo probabilmente riempito banche di mezzo mondo peccato che nella nostra parte sia rimasto per poco quindi secondo me dobbiamo capire funziona? funziona? sì adesso sì l'ho fatto un po' così allora salza la bocca possiamo cercare di inventare dei metodi creare inoltre emozioni e internazioni realmente cercare di creare un nuovo tipo di azione politica più efficace ancora e che la gente recepisca di più perché ancora oggi la gente non ci recepisce non ci conosce bene facciamo troppa pratica e quindi il mio consiglio è di sinistra e verde grazie credo che ovviamente i ruoli fondamentali del movimento sono cioè del consigliere perché vi parlo dall'attività che posso fare in questa situazione sono ovviamente portare dentro le proposte dei cittadini portare fuori i documenti con cui vengo in contatto ma soprattutto cercare di cambiare gli strumenti di partecipazione se non cambia quelli comunque noi ovviamente siamo entrati con la nostra mentalità cioè la trasparenza ognuno vale uno il consiglio comunale è un buon stile dobbiamo cercare di cambiare proprio gli strumenti di partecipazione dei cittadini appena cambia quelli metti che passa il referendum deliberativo senza quorum loro sanno che qualunque cavolata che fanno la cittadinanza gliela può correggere se tu appolisci il quorum poi come in Svizzera diventa uno strumento utilizzabile può fare 16 all'anno come in Svizzera a quel punto si che diventa anche di uno strumento di controllo del governo per la città la parte dei cittadini in questo momento non ha gli strumenti e anche io come consigliere la maggior parte degli strumenti in mozione di interrogazione non funziona e questa è la cosa incredibile questa è la strada giusta perché gli stiamo dando davvero fastidio che è la strada giusta che è la strada giusta che è la strada giusta vai se non riesci di fare il consiglio di fare il consiglio di fare il consiglio di fare il parlamentare quindi il consiglio regionale ma anche due siamo sicuri due cioè si puoi fare regione così ma in totale due legislature e poi fine penso dovrebbe essere questo il senso a tutti i dati proprio su due legislature di fare il consiglio di fare il consiglio di fare una cosa che è più importante è più diverso perché c'è un'esperienza proprio diciamo di essere una bella idea io ci vorrei fare un'altra domanda è come no non si sente no si ah scusate finito ok prova pronto prova ok si fa una cosa riguarda una funzione comunque una delibera che fa pagare adesso tutti i passi carni la sento un po' come una cosa quasi personale quindi la riporto lo spazio non so se in un contesto ci sono comunque vari controllo stesso è un servissimo che ci hanno rigettato nel momento che diciamo tendeva a passi carai subito in quel scampiedi subitamente male che sarebbero utilizzati sui passi carai per fare transitare e proteggere macchina e l'hanno rigettata per legittimità credo ecco io vorrei che ci fosse non c'era nessuno di fronte anche a fatto solo di dire che è legittimo perché io credo che la persona che si è passata pagata da un'altra su questa genera macchina quello è legittimo quindi chiedere magari se è legittimo cioè si fa come si fa la nota perché non si deve fare ma in quel caso là opporsi a fatto che si fa il passione anche o comunque bisogna mettere i paletti non la macchina esatto al di là dell'illegittimità dell'eventamento non ci scopri così insomma l'ha ricordato che gli uffici che andato da oggi in quel contesto non poteva ammettere infatti io proprio avevo consegnato l'eventamento normalmente poi in aula mi sono trovato nel report dei presentati che era il legittimo il problema lì potremmo cambiare strada ovviamente andare con o prima di tutto interrogazione comunque all'assessore perché deve dirci in che modo vogliono risolvere il problema dei parcheggi sui macchieri che l'altro una funzione per impegnarli il problema è sempre se il piano dico è saltato lì ok ci risentiamo proviamo con una funzione ciao 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 cosa è che sta dicendo a tutti mi sta facendo una domanda a persone scusi consigliere non la vediamo a casa prima dell'albobretorio una delle prime non di schiena disgraziamo e una delle prime domande che uno fa cioè una delle prime ma scusate Antonio la terza Movimento 5 Stelle zona 9 consigliere di zona e una delle prime sull'albobretorio in merito alla trasparenza adesso il limite è che tutto viene pubblicato però resta online in 15 giorni però non so se abbiamo già fatto in comune richiesta di prolungamento di albobretorio allora mi è parlato l'altro giorno in commissione proprio l'albobretorio proprio come avevo detto è uno strumento di altri temi per legge deve essere 15 giorni perché se no non è l'albobretorio non gli va bene se non è così dovrebbe già essere in corso la realizzazione dell'archivio delle delibere dei documenti che a quel punto diventa interessante anche lì ho chiesto che deve essere un archivio ma ogni delibera deve essere indicizzata sui motori di ricerca perché tutti i siti delle amministrazioni comunali lo 0,1% ci arriva dal sito del comune e tutti gli altri lo trovano navigando sui ritmi è un po' più difficile perché la maggior parte dei test non sono immagini e quindi è difficile la ricerca o meno poi dipende da vedere un'altra cosa che abbiamo con i 5 stelle dovremmo trovare anche se ne abbiamo tanti già online anche online altri momenti di aggregazione che insomma speriamo di trovare il bandolo della matassa sia con argomenti ma magari o anche con possibilità di accogliere i nuovi contenuti di altre persone e poi vedremo poi molte volte non lo sappiamo cioè molte iniziative sono personali perché per dirti tu devi fare una delitto domani al consiglio e l'interrogazione magari va a finire che la scrivi tre ore prima insomma del consiglio però insomma vediamo un po' se riusciamo se non so se voi magari adesso c'è un intervento che propone in qualche modo sul momento insomma no prima di tutto per l'interrogazione che magari ti trovi a scrivere a te stesso in cioè in questi mesi anche perché i tempi sono non so se vi trovate comunque la question la risposta in consiglio da noi purtroppo no quindi sono tutte con i tre che da giorni un'altra cosa bella che praticamente tutte le iniziative tutte le emozioni tutte le interrogazioni che comunque abbiamo consegnato in comune non sono mai praticamente mai nate da la mia iniziativa e questa è una delle cose fondamentali proprio per essere portavoce io cerco il possibile di farle arrivare dagli attivisti e ovviamente nel caso faccio anche una proposta ma quasi la totalità sono nate da altri attivisti da altri cittadini che propongono in rete per lo strumento come avevamo parlato nell'ultima riunione con i consiglieri di zona il P2Work potremmo metterlo visibile in caro anche subito secondo me è uno strumento che può diventare molto più potente adesso chiunque può scrivere basta che chieda l'autorizzazione basta che lo mettiamo visibile a quel punto può essere anche condiviso su Facebook e a quel punto secondo me potranno portare a partecipare di più ovviamente lo strumento non è uno strumento definitivo sicuramente perché molte limitazioni così come non lo è in TAP siamo in giro che un altro problema è che sì comunque anche lo staff non ci sono i soldi per fare uno strumento migliore comunque quello che ho visto stando su Facebook e Twitter comunque c'è molto risposta in quel momento le persone sono lì d'altro canto lo strumento che possiamo avere è proprio un luogo dove si scrivono che può essere in Tpworks e allo stesso tempo poi però far vedere in rete direttamente questo strumento dare la possibilità di finire su Facebook sia di vederlo che nel caso cliccando ti rimanda dove la puoi scrivere lì sto cercando un po' tirando su un blog con Wordpress ci sono degli strumenti carini che ti per esempio nei commenti questi vengono generati automaticamente per esempio da chi parla di questo file su Twitter e la pagina ti va in giro per il web a riprendere i commenti da sola cioè a chi ne parla ci sono un po' di esperienze il problema è che lo strumento come sarebbe a noi non esiste che allora dobbiamo cercare un po' sui social network un po' su Twitter se sono i video non è un video non è un video che mi fa se non è un video ma ok se non è un video è un video infatti direi che per il momento magari procediamo con uno dei più successivi nel tempo che ci rimarrà fino alla fine farete tutte le domande che ancora sono rimaste allora io adesso vorrei parlare a Renato che ci parla un po' della partecipazione al movimento chi li presenti ancora conosce tutti gli strumenti e i trattuali di partecipazione Renato ce li fa vedere live siamo collegati a internet direi che siamo quasi tutti attivisti e sostenitori storici per quello che riguarda soprattutto a chi non ci conosce o non sa quali sono gli strumenti che abbiamo usato fino ad oggi partirei perché è il nostro esituzionale dal blocco e dal blocco nazionale a cui siamo ospitati nella sezione di Stecini questo immagino tutti noi siamo iscritti per aver montato oggi uno dei presupposti alla propria iscrizione a questo spazio ci sono state alcune modifiche dalla parte delle liste civiche perché come sappiamo nel 2012 alcune liste insomma si presentano alle elezioni per cui questa sezione è nuova penso che sia una cosa degli ultimi giorni l'ho visto settimana scorsa dopodiché per accedere alla lista di Milano faccio proprio un breve un breve dietro mi può essere un discorso tecnico giusto per avveniarci tutti in particolare su Milano abbiamo la sezione della Lombardia ed è questo diciamo lo spazio che noi usiamo con la lista civica a Milano per comunicare quelle che sono iniziative che facciamo e che abbiamo fatte una premessa io credo personale però poi la discussione è aperta questo è uno strumento critico nel senso che dovrebbe essere il nostro strumento principale non so quanti di voi hanno visto l'intervento di Casaleggio di Beppe a Roma settimana scorsa è stato un incontro direi uno dei più interessanti personalmente nel senso che finalmente sono state fatte delle domande molto aperte le domande che spesso si trovano in rete i dubbi con produttismi vari insomma sia Grillo che Casaleggio credo abbiamo cercato di rispondere in maniera abbastanza sincera e una delle cose che è emersa è che le modifiche tanto attese di cui spesso ritorniamo a chiedere e manifestiamo l'esigenza fondamentale le modifiche al blocco non verranno implementate breve loro si stanno muovendo in un'ottica di elezioni nazionali per cui quelli che sono gli strumenti che andranno ad implementare lo faranno in quella funzione un messaggio da questo punto di vista è quello che sia usate quello che c'è e soprattutto usatelo io credo che i primi devono usare non è una considerazione dovrebbero essere i consiglieri nel senso che è solo se sono i consiglieri i primi di usare questo strumento che poi le persone seguono per commentare e fare altre proposte se resta uno strumento semplicemente di pubblicazione delle attività che è comunque fondamentale ma se non c'è partecipazione in particolare sul forum perché seppur il completo critico lento eccetera su questo spazio c'è un forum un riservato di attivisti di Milano considerate che dai dati che abbiamo noi non abbiamo accesso a database eccetera ci sono circa 10.000 iscritti su questo forum ad oggi è quindi lo spazio con cui riusciamo a comunicare al maggior gruppo di persone contemporaneamente ancora superiore a Facebook se ne intendiamo solo come nostra pagina se Facebook come intendiamo come somma delle nostre pagine eccetera probabilmente arriviamo di un giusto per cui questo è uno strumento fondamentale perché se noi vogliamo comunicare temporale tutti quelli che si sono iscritti nel blog c'è un'opzione molto semplice non è che si crea un post c'è la possibilità di sharearlo di condiviterlo con tutti quelli che hanno lasciato la mia abbiamo fatto alcuni esperimenti non l'abbiamo stressato molto come vedete però alcuni esperimenti si può discutere sul continuo abbiamo fatto un sondaggio relativo da mobilità hanno partecipato 1300 persone io credo fino ad oggi sia stata la risposta più alta che abbiamo avuto entrambi in partecipazione è chiaro è un strumento molto semplice è un sondaggio però è molto difficile trovare un numero di questo tipo anche sui social come Facebook quindi adesso voglio andare più costruzione il forum resta cioè il blog resta lo spazio centrale l'evoluzione sarà molto lenta e sarà in funzione dell'uso che noi le facciamo quindi più le usiamo più scopriamo le criticità più possiamo segnalarle e più con il tempo queste criticità verranno devono essere risolte un altro spazio fondamentale a cui abbiamo già accennato non so quanti di voi a questo punto ve lo chiedo quanti di voi sono iscritti a Google oX al wiki direi da qualsi totalità ma magari no faccio prima chiedere chi non è iscritto al wiki ok il wiki il dbworks è un wiki ok per wiki in cui ti avviene di wikipedia è uno strumento che lo usiamo mai da più di un anno ci abbiamo costituito quasi molti documenti nella lista che abbiamo scritti lì ed è uno strumento molto utile non tanto per discutere di un tema ma quanto per elaborare dei documenti a più mani cioè il discorso della partecipazione per noi è fondamentale non solo nel momento in cui appunto ci troviamo discutiamo eccetera nel momento in cui andiamo a realizzare un testo che dovrebbe essere un testo condiviso dal movimento e poi andiamo a proporre le varie sedi stituzionali troppo spesso succede che e non è una critica anche questa i documenti vengono scritti da poche persone poche altre persone vi danno un'occhiata e questi documenti escono senza che ci sia stata una partecipazione veramente allargata qua io credo che dobbiamo non so dove stia il problema del reprozio è un problema proprio di partecipazione probabilmente qua la domanda la si fa a tutti la domanda aperta capire quali sono i momenti in cui la partecipazione non è effettiva oppure in cui si fa fatica a intervenire in un processo magari qualcuno vorrebbe fare delle considerazioni fare delle proposte non sa come dove inserirsi io penso che potrebbe essere uno spazio di discussione perché è proprio un momento centrale della partecipazione se non so come fare a intervenire su un documento all'interno del quale tra me c'è scritto una cosa sbagliata abbiamo un grosso problema di partecipazione credo che col tempo e col utilizzo dello strumento certi problemi vengono nero anche qua io invito molto i consiglieri ad essere presenti nel momento in cui ed è un consiglio nel senso che spesso possiamo evitare errori tutti sbagliano però nel momento in cui si ha il tempo di anticipare cosa che sarà un provvedimento o un'iniziativa che andrete a fare all'interno delle serie istituzionali e avete la possibilità di condividere una bozza magari di testo all'interno di questo spazio e lo condividete a vostra volta con tutte le persone iscritte oggi sono circa 250 iscritte a PDWords io credo che avrete la possibilità di avere dei feedback immediati perché subito le persone iscritte arrivano a media in cui si sa che Alessandro e Carmen hanno pubblicato un testo che è quello che vorrebbero portare in discussione immediatamente chi è nella zona o chi segue il comune ha la possibilità di inserirsi non solo di commentare quindi facendo una sua considerazione ma proprio intervenendo sul testo scritto inizialmente e modificando ovviamente tutto viene tracciato per cui sappiamo chi ha modificato cosa e quando e alla fine è una cosa interessante che se nessuno deve avere documenti iscritti veramente a più mani non è facile perché bisogna accettare che qualcuno metta mano metta mano il nostro scritto però è anche proprio una tradiscrizione si cambia l'approccio si scrive qualcosa non solo io per l'alto verso il basso applicando il documento ma dopo il interviene fa più carattere più male non è facile ti interrompo solo per dire per far finire la votazione in modo che poi riusciamo a fare lo spoglio semplicemente di dirlo prima di darti la parola scusa quindi chi ancora volesse votare non l'ha ancora fatto gli chiedo di farlo nei prossimi 5-10 minuti in modo che poi tra io direi tra 10 minuti e l'altro chiudiamo la votazione poi gli chiedo Libio mi stava scappando di fare uno spoglio magari ripreso dalla telegala e direi non so il risultato ecco e devi scogliare oggi dunque velocissimo diciamo io poi e quindi sul di primo ops poi volevo fare una premessa volevo fare la fine ma forse il caso perché non vorrei entrare troppo nel tecnicismo sarebbe molto interessante riprendere le attività che facevano prima durante la campagna che era era anche amata a suo tempo social media sueggeri ma in questo è che vanno proprio vogliamo incontri di formazione sugli strumenti cioè io in particolare probabilmente dopo il scontato che tutti sappiano come usare certi strumenti immagino che non sia così e questo è un diritto strutturale era molto interessante quello che facevamo ai tempi quando avevamo in ufficio in cui ci appoggevamo in Bovisa cioè periodicamente una o anche più volte a settimana noi ci si vedeva con le persone che erano interessate a partecipare a questi incontri e si spiegavano tra virgolette cioè insieme si costruivano quelli che erano gli strumenti si davano le basi comuni a tutti per avere un account twitter sapere come usare facebook eccetera e avere un minimo di attività coordinata su tutte quelle carole attività che facevamo sui social in particolare venendo i social io mi occupo di comunicazione mi capita di fare corsi in cui spiego i social alle aziende sono ovviamente rispettivissimo a farlo anche tra di noi ovviamente l'ottica non sarà quella aziendale sarà quella della politica del movimento ma le regole vengono assolutamente le stesse per chiudere quindi abbiamo detto forum nazionale con i blog wiki che non è un mostro appunto è il tv works ed è uno spazio di scrittura comune e gli ultimi anche se sono forse i primi in termini di quantità e in termini di impegno sono i social tra di alcune in particolare oggi se parliamo di social abbiamo di facebook di twitter anche di youtube che è un canale di sharing video su questi vabbè noi abbiamo la pagina la nostra pagina del movimento di Milano ci sono le pagine di alcuni consiglieri c'è la pagina di Mattia in particolare che tra tutte è quella che ha avuto più fan nel più seguito ed è il canale che Mattia usa nuovamente per aggiornare e confrontarsi con le persone questo è un mondo nel senso che ancora oggi il nostro utilizzo è stato quasi non direzionale nel senso che a noi si pubblicano gli aggiornamenti di BEP e quello che fanno i consiglieri probabilmente anche qua possiamo migliorare molto in termini di riuscire a coordinarci meglio cioè invitare quindi i consiglieri a utilizzare per chi non lo fa maggiormente questo strumento nel senso di postare le attività che loro ritengono importanti è un'attività importante della pagina di rilanciare come pagina quello che consiglieranno scritto perché è una questione molto tecnica se io scrivo su una pagina l'informazione che c'è scritta non so l'ultimo post che non è proprio un post amico però Tiziana Papro che qualcuno di noi conosce anche un'altra e va bene così scrive una cosa quella cosa la vede solo chi va su una pagina in movimento ok dei 3614 fan pochi oggi probabilmente andranno sulla pagina di sinistra se però il movimento condivide l'amministratore del movimento condivide un post fatto da una persona che ha scritto quel post lo vedono tutti gli iscritti alla pagina del movimento quindi è per quello che è fondamentale un'opera di rilancio gli amministratori della pagina io sono uno di questi alcuni di noi scusate lo sono ci dovrebbe essere un'attività di rilancio maggiore maggiore visibilità a quello che fanno le zone sì magari andando a cercare i gruppi locali del movimento appunto le varie zone e rilanciando una volta quando non sono loro a postarsi le cose sulla pagina sia il premio sui che dobbiamo appunto dare visibilità a quelle che sono le azioni che abbiamo fatto quindi io per chiudere un invito che mi farà piacere fare riuscire a concretizzare è quello di ripartire a breve con dei gruppi di lavoro sulla comunicazione stretti ma piuttosto allargacce nel senso che abbiano la possibilità di fare formazioni quindi creare a loro in tala figura che una volta poi riusciranno a spiegare alcune cose e che possono servire a tutti magari in tempi diversi per allinearsi su quelli che sono gli strumenti che poi vengono magari in due altre poste per andare oltre a quello che c'è basta io non lo vorrei aggiungere una cosa al volo su Twitter scusate una cosa al volo su Twitter che ho iniziato a fare qualche giorno fa è rispondere a Pisa Pia perché come sapete Twitter è totalmente trasparente e come voi potete quando fate un tweet mettete una fiocciolina e poi il mio account mi raggiunge direttamente e chiunque può vederlo anche con Pisa Pia ha uno staff che risponde no tu ce la fai mia mail e praticamente l'altro te lo conosceva con un post dove diceva wifi gratis in 50 sedi a Milano io durante la giornata ero andato a misurare la velocità e gli ho risposto ok però gli ingerano più veloce e anche lì è carino perché lo vedono tutti e si vede anche che rispondeva praticamente su Twitter e che a me e quello può essere sia come posso farlo io con Pisa Pia cioè controllo anche io di un dipendente voi potete farlo con un altro come lo stesso mandati dei messaggi diretti non è come Pisa Pia dove si cancella la riguardia qui che è soprattutto il mio trasparente e si vede sempre quello che si fa perché anche lì lo faccio dentro di un corso se diciamo le tecniche che li utilizzo in social ce la sono in diversi e risposta si ma in questo caso si risposta a fare e per cui non vediamo tutto su queste due pagine che ci sono semplici purtroppo non posso contemplare la pagina che c'è la pagina che si vede coinvolgendoci in tutte queste varie descrizioni che hanno creato solo le istruzioni che poi il tempo è limitato e se tutti guardiamo utilizziamo solo con nazionale magari riusciamo tutti a dare il nostro apporto e per quello si spera il discorso non basta non basta ma penso che l'esigenza era quella da un lato di parcellizzare proprio i posti per permettare le persone di lavorare in i miei gruppi e il fatto che sia state create delle pagine di zona non si raccoggeva ogni zona ma anche in mezza città il giorno sì ma c'è la pagina attivisti e poi un'altra ma sai quello dei social che ormai sono liberi poi quelli maggiormente interessanti sono quelli più seguiti sono quelli che funzionano non è scontato che una pagina nata in maniera estemporanea da vedere qualcuno riesca poi a coinvolgere tante persone che diventa un canale affidabile proprio perché le persone lo seguono però sono d'accordo il mio invito era almeno gli strumenti centrali che sono blog con tutti i suoi limiti e difetti lo sappiamo ma è altè la pagina facebook ufficiale cerchiamo di usarla cioè noi oggi a Milano credo che potremmo arrivare più oltre ai 3600 fami e dovremmo abbiamo 20.000 persone che ci hanno votato io sono ottimista perché almeno il più l'80% di quelle persone sia in rete e potenzialmente sia su facebook per cui diciamo che arrivare a un traguardo di 10.000 fan sulla nostra pagina ufficiale non è così impensabile ci fa un milione di persone è chiaro che se riusciamo a concentrare maggiormente questo è l'invito a tutti ovviamente ognuno ha il suo spazio che si crea dal suo blog personale non ho parlato dei blog dei consiglieri ma sono uno spazio molto importante perché sono il primo spazio aperto aperto inteso nel senso che non c'è nessuna registrazione per accedere e leggerlo tutti i cittadini perché io credo che i consiglieri mi cercano di parlare a tutti possono utilizzare per capire cosa succede in zona quasi tutti i consiglieri hanno fatto il loro blog alcuni non avevano la minima dimestichezza stanno diventando molto molto male utilizzare e ho proprio molti prover cioè si comincia da poco ma per un piano si impara si sbaglia e si migliora quindi lo spazio dei blog di consiglieri tra l'altro sul nazionale qualcuno che ne ha prima streaming sulla pagina del blog nazionale l'area del forum della lista di Milano e sono presenti anche tutti i riferimenti dei consiglieri di zona e dell'eontrematia tra cui questa cosa mancava ripeto l'utilizzo tecnico degli strumenti lo approfondiamo in cui ricominciamo a fare dei corsi 10-15 persone alla volta ci si preparano delle domande assolutamente quindi ci sarà dentro lo stesso corso ci sarà quello in grado di spiegare tutto quello che è a zero le difficoltà si superano io faccio sempre esempio ma mamma a 70 anni ha iniziato a programmare i siti per cui ha fatto due anni di università ma non pazienta la parte la sola senza quindi penso qua chiunque di noi possa arrivare a quello che sono in grado di spiegare non ho troppo sì vabbè io direi chiuse le votazioni quindi cominciamo a fare lo sport e andiamo avanti ok allora c'erano intanto i miei domande si sono segnati due per fare i domande il primo è Alessandro la rete c'è la rete dammi anche lei c'ho 32 persone che ogni tanto qualcuno chiede qualcosa allora ci mettiamo in coda che lo... eh io giocato planche o per la rete ha detto pure sì ciao io volevo solamente fare una considerazione rispetto a tutta la spiegazione che è andato fatto sui blog sui social network su tutto quello che sarebbe ottimale che riuscissimo a utilizzarli il problema è il tempo il tempo e le competenze le competenze possono essere sopperite con dei corsi degli incontri di chiarimento rispetto al blog rispetto al nazionale i tempi sono quelli noi a differenza del comune in zona 2 non sono in altre zone in sé anche per loro è così la documentazione che ci previene tutte le informazioni che arrivano dal settore arrivano 24 ore prima del consiglio quindi per noi dover pubblicare la cosa su Keywords non è utile anzi ci rallenta molto perché la decisione deve essere presa nell'arco temporale di una giornata quindi molto spesso per noi in zona 2 o molto meno è più semplice utilizzare il blog personale in giro di me di fra le 20 persone che della zona sono attive tutte le uniti alle riunioni e partecipano costantemente ai lavori e allora con quelle persone cercare di sviluppare una mozione di mandamento di interrogazione di interpellanza a seconda della necessità quindi credo che il Word sarebbe ottimale nel momento in cui avessi una documentazione per tempo è la prima discussione perché se io devo postare su Google se erano un'eventuale emozione per esempio un giorno dopo diventare comunicato e in termini di tempo anche fisici comunque la pagina di Facebook della zona la pagina di Facebook personale le poste sulla pagina di Facebook 5 stelle perché vada sui blog nazionali appuntamenti di eventi il blog personale Twitter dormire lavorare basta non c'è tanto tempo credo credo che questo passaggio che è fondamentale poi chiudo avverrà automaticamente nella misura in cui ci saranno più persone attive a livello pratico non solo a livello informatico è vero che noi siamo un movimento che nasce la rete che lavora con la rete ma abbiamo bisogno anche della la sala lavorativa quindi più persone siano poi attive fisicamente e più si può dividere le competenze uno può seguire un problema uno può seguire un problema allora lì sarà sicuramente più facile andare su tutti i canali informatici interiore a livello risposto dei tempi non so rispondo io ma che voglio possa rispondere a chiunque è assolutamente comune anche al comune nel senso che vogliamo di tanto che ci possa vedere da l'ex del giorno prima o da 50 e 60 pagine è un casino quindi se non ci sono più volontari a farlo potenzialmente anche competenti perché possiamo solo fare le critiche non fondate non è facile il video a condividere su TVWorks dovete dar conto della tempistica in ogni caso io pubblicarei tutto quello che mi passa sotto un anno allora sapendo vedere che ad alcuni documenti non avrò con niente perché sono troppo lunghi perché la gente non l'ha letto è una anche perché ci serve come storico e potrebbe essere un archivio si diceva prima apriamolo o non apriamolo questo è una considerazione ovviamente da fare una decisione da prendere come un movimento di un anno del complesso fino ad oggi l'obiettivo di mantenere TVWorks sotto richiesta di accesso è giustificato dal fatto che molte discussioni molte sono proprio discussioni e tra le quali sono dei documenti su cui non c'è stata discussione la discussione comincia nel momento in cui il documento viene ripostato alcuni sono piuttosto critici noi sappiamo che ci osservano la cosa non ci dico non è che ci spavente anzi però la scelta è stata va bene almeno dobbiamo sapere chi accede ok perché va bene essere trasparenti ma farci imparare le idee sapere i giornalisti quelle persone in discussione prima che si arrivi a una sintesi eccetera ci sembrava scoprire un po' troppo quelle che sono ovviamente ad oggi di fatto il wiki è aperto a tutti perché se ci arriva una richiesta di appare il wiki noi non facciamo nessun tipo di verifica investigativa diamo accesso alla Asta quello che vengono lavorandoci abbastanza le wiki è che purtroppo spesso le discussioni sono fatte da poche persone quindi questo è un'odimità strutturale nel mio conto come dici tu che comunque le risorse fisiche io parlo di rete ma poi è chiaro che io credo per esempio sia importante riattivare quelli che sono dei gruppi di lavoro tematici poi adesso punto passo però che sono dei momenti in cui ci si confronta fisicamente e si cominciano a attivare fuori i problemi dice ragazzi io tra la settimana devo discutere questo 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 qual è il mio movimento che ho fatto una conferenza che è molto interessante ai 16 su mobilità quello che sto cercando di spingere nei google e concretizzare la conferenza dove incontri un tavolo da mobilità a cui partecipa ovviamente chi voglia partecipare che è sottotato da un punto e da quel tavolo far emergere 4-5 proposte molto concrete che possono trasformare in informazioni in informazioni che erano inizialmente a consigliare su tutti i temi sui rifiuti vogliamo organizzare la conferenza anche questa adottare sempre a riattivare il tavolo di lavoro sull'energia la stessa cosa abbiamo fatto un lavoro sulla collettività forse è quello il primo tavolo che è partito credo che bisogna organizzarci fisicamente senza parte di assemblei generali che sappiamo che sono un'entità che nel movimento sono contemplati da un certo punto e i cui esiti sono sempre abbastanza incerti però i gruppi di lavoro tematici sui temi del programma credo che da questo intenziale che da questo incontro si potessero riattivare ok programmiamo le 5 capiamo qua dentro chi è disponibile da partecipare e cominciamo a vederci assolutamente allora io direi l'ultima domanda di Anna che si è registrata poi ce ne sono alcune domande tramite Claudio della rete parecchie però se anche Claudio mi ricordo magari poi io vorremmo fare magari lo spodio una volta penso veloce in cui Livio il nostro ascoltatore dice insomma le cose che dite le cose che si sono fatte assieme quindi l'ultima domanda domanda di Anna spoglio in diretta diciamo ascoltiamo tutti e poi domande da Claudio o da altri che non è successo quindi Anna ecco noi abbiamo tanti strumenti diciamo così noi non volevamo aggiungere un altro quindi no è il discorso che stavamo analizzando il tema della mappatura delle criticità nelle varie zone e quindi all'inizio siamo partiti con l'idea di fare un bloc della zona poi abbiamo visto che esistono già questi strumenti tra l'altro anche gratuiti e che sono o partecipanti oppure a reno urbano quindi volevo sapere magari anche da mattia se per quanto riguarda la mappatura della zona è già stato avviato così un'idea di utilizzare un strumento piuttosto che un altro insomma perché appunto noi eravamo utilizzati verso il decoro urbano però sentire un po' se è giusto a questa nostra direzione che cosa è emerso nelle varie riunioni sì per quanto riguarda del nuovo urbano credo che sia un dei sistemi migliori proprio perché a livello nazionale quindi anche per esempio una persona che viene in vacanza a Milano e ha uno smartphone può fare una segnalazione independentemente dal sistema che inizia detto sia in zona che in consiglio comunale dobbiamo fare una mozione o comunque un atto in cui intendiamo la giunta o la presidenza delle varie zone proprio ad adottare decoro urbano come sistema di segnalazione e anche lì bisogna vedere se è tanto il comune quanto in realtà le municipalizzate cioè AMSA che deve usare oltre al suo centramino decoro urbano insieme al suo centramino quindi sicuramente possiamo farla come iniziativa congiunta nelle zone del consulio comunale ma la far usare al comune o la la far usare al comune con lo urbano l'economo urbano lo usa qualunque cittadino con lo smartphone come se ne ossiva adesso perché trovo molto tempo di approfondire poi tutti i corruppani gli danno tutti i programmi poi stamattoli su cui sembra sì io sono stato a Roma da loro dai programmatori a trovarli quando stavo parlando esatto quindi oltre che i corruppani tutto l'arco dovrebbero uscire una segnalazione quando tu come comune aderisci a questo contratto che è gratis per il comune ti danno uno strumento per gestire le segnalazioni no cioè nel senso io non voglio far guidare la loro installazione ma l'installazione di autobus sai se è possibile come l'installazione di corruppani c'è il server in questo modo il corruppano non c'erò che ha il di roma insomma no no i server è sempre sono dell'azienda che gestisce il corruppano questi programma trovarli oppure cosa? non è buono eh sì sì però loro intanto non fanno come per a più un comune che è arrivare le segnalazioni scomade magari proprio perché non ha cioè loro hanno solo l'anti-spam cioè io diciamo che ci sia un utilizzo proprio di spam di questo sistema ma di fuori che quello loro non possono togliere c'è qualcuno sui luoghi che già ci sarà orato perché il corruppano dice una nuova che il corruppano che il corruppano dice una nuova vuole iniziare a parlare di una posizione di un corruppano a riconare un programma che si chiama chi parla e parla per di tutti ah sì ho visto quello del comune di Uli costicchia però il corruppano lo ha dato di essere gratis il nostro scutatore del cellulare va beh insomma dobbiamo fare lo sfoglio dei voti e comunque abbiamo altre domande come gli apostoli qualcuno stasera mi tradirà qualcuno ha già dato lo sfoglio quindi qualcuno stasera va beh e Gabriele se dai magari lui ci dici dunque è un sfoglio lungo facile contrariamente ad un anno fa purtroppo sappiamo anche che qualcuno ha votato e l'hanno dimmato di questo voto non è più segreto perché sappiamo che c'è un solo voto no ed è di Mattia sicuramente quindi siamo un attimo imbarazzati in questo ufficio elettorale hanno votato comunque 57 persone e come dicevo c'è un solo no non faccio neanche le percentuali complimenti Mattia per gli altri segreto aggiungo anche due voti aggiungo anche due voti da casa che non valgono comunque giustamente anche da casa sono arrivati certo tanti direi vabbè chi ha letto le pagine a te in questo ci pensano che ha avviso moltissimi anche umani non si che avevano una votazione positiva vabbè io quindi direi chiusa anche la fase di voto ma sarei come abbiamo detto se Claudio ha delle domande da fare la legge giusto per poerenza perché comunque l'hanno posta come domanda perché la domanda è che è arrivata dalla rete vera e propria riguarda cosa ne pensiamo di un incontro nazionale con il Movimento 5 Stelle io non ho risposto in mano muto perché dentro il Movimento 5 Stelle mi hanno si può rispondere è bello fare questo lo faccio volentieri come incontri ovviamente qualunque incontro in cui si può scambiare con gli altri consiglieri ovviamente è vero certo ma come scambio ovviamente dato che uno delle basi del nostro statuto del nostro programma è proprio il fatto di non avere organi che non vivi perché se no si finisce come un partito al contrario a governare cioè a governare tra virgolette a governare ad essere elettivi ad essere consiglieri devono essere loro i consiglieri non restaci un partito che ti dà la linea proprio per questo credo che un incontro volto al condividere le esperienze positive o delivere o atti possa essere assolutamente positivo poi è questo lo spirito del Zelfalo nazionale proprio il condividere gli atti e gli dimenti gli dimenti ci sono altre domande a questo punto direi i punti principali che abbiamo detto ai tizi lo siamo esauriti non so ad esempio io ho bene in mente visto che qualche faccia non abbia una violenza direi che sono conosciute o qualche faccia no oltre che essere inutile ad esempio che i consiglieri già presenti possano venire in pausa e non rappresentarsi non so se se magari non tutti ripeto in questa sala salvo che sono in consigli conoscere le immagini ma via a me è consigli bellissimo ma questa potrà essere una cosa da fare magari vediamo altre cose aspetta va bene Alessandro partito Alessandro partaglia zona 2 possiamo segnalare con te anche nelle zone nella zona 2 abbiamo una pagina di facebook una pagina della zona 2 c'è il blog personale io consigliere di chiedere alle pantaglia come come si mette come e breve partiamo con la conferma stiamo valutando tra gli attivisti della zona 2 come farla se programmarla con un voto cartaceo o se riusciamo a creare il mondo online per votarla visto che per fortuna l'incontro tra consiglieri non è stata data la linea comunque per tutti o stare nella scelta per le mie circostruzioni di mettere i piedi a propria discrezione il sistema di votazione parale con ora passo al prossimo ciao io sono Danilo Bonni in zona 4 e come ha detto Alessandro anche io ho fatto un mio blog fortunatamente mi sto organizzando con alcuni attivisti in quattro anni c'è anche Andrea che mi segue mi accompagna e mi sostituisce in alcune commissioni a volte perché comunque per la loro a volte non riesco ad essere presente e insieme c'è anche Alex Poyer e Daniele Pesco che principalmente partecipano i lavori commissioni al consiglio di zona noi abbiamo un blog abbiamo un blog di zona un blog micro personale e una pagina del gruppo di zona 4 quindi sono tutti sono Camiglia Dura consigliere di zona 7 noi abbiamo il blog dei consiglieri abbiamo la pagina di facebook della zona 7 le pagina di facebook e le pagina e le pagina di facebook io attraverso ogni blog cerco di informare trasparentemente tutto quello che faccio e tutto quello che vedo cerco poi nel mio piccolo di filtrare quello che vedo e di presentarlo ai cittadini secondo quella che sono i nostri diciamo geni del nostro DNA di Movimento 5 Stelle l'aderenza al programma di quello che vediamo e che ci sembra distotto rispetto ai principi in cui crediamo quelli del nostro statuto che abbiamo abbracciato al nostro programma di cui noi consiglieri siamo esclusivamente cortavoce e esecutori ho trovato molto interessante l'intervento di Renato che ha tradotto veramente cioè ha molto propositivo rispetto anche a quello che noi come consigliere avevamo in varie occasioni segnalato per esempio talvolta la scarsa partecipazione alla pp box che andrà sicuramente alimentata sempre di più e faccio eccitare come credete dove volete che state soprattutto costruzibili cerchiamo il nostro piccolo di fare le novità brava grazie ciao ho aperto ho aperto una pagina facebook ho aperto un'altra pagina su esempio di zona 9 ti ringrazio pubblicamente quella segnalazione del territorio che si chiama segnalami prezzo ovviamente quello che sta diventando un tormentone e al momento sto cercando diciamo di allargare un po' la partecipazione perché sulle pagine di facebook comincio ad avere tanti sui seguitori che scrivono e commentano volevamo cercare anche di implementare il gruppo di lavoro fisico cioè di riuscire a creare un uso per incontrarci e sono tuttora il nuovo progetto che sicuramente pensiamo che cosa sappiamo da tuttora e meglio facciamo il nostro lavoro e basta è il momento di avere il sole che si piacciono per la mia opera ciao io come come originario devo conoscere di barizona non potrebbe essere peggio per me perché c'è questa vostra io sono consigliere di zona 9 insieme a sign of state e una cosa bella è che siamo in due quindi ci supportiamo a vicenda potrei dire notevolmente e più abbiamo abbiato una serie di strumenti informatici praticamente abbiamo più strumenti informatici che però insomma è tutto con un po' di criterio la prima era stata una pagina aperta senza riportare esplicitamente del tipo un movimento 5 stelle in cui invitiamo i partecipanti a risolvere i problemi della zona infatti anche noi stessi con il movimento non postiamo cose del movimento se non iniziative tipo il movimento mi danno uccide la mafia uccide eccetera tranne in questo però generalmente si cerca di parlare di problemi della zona anche su facebook il pbworks ne abbiamo fatto subito una sezione aperta in modo che chiunque può già leggere su pbworks è linkato ovviamente dai blog personali dei consiglieri di più anche qui insomma il numero di blog che abbiamo è quasi infinito se vedi uno di questi è attivisti zona 9 in pratica noi abbiamo dei consigli degli attivisti quindi consiglieri che partecipano ci danno una mano sia nel lavoro delle commissioni vengono con noi quindi loro alla fine della partecipazione quando finiscono la loro partecipazione alla commissione in blog mettono il loro di assunto in modo che vi si viene peraltro ovviamente tutti questi articoli dice non è chissà quale diciamo bacino di utenza o di lettura però sappiamo anche che la democrazia non è questione di numero di persone che già cede come anche alla zona 2 gli hanno concesso una delle osservazioni che gli hanno fatto sulle riprese video è che bisognava vedere il bacino di utenza però sappiamo benissimo che la democrazia non è questione di bacino di utenza la democrazia c'è qualcosa di documento di trasparenza che deve essere lì in modo che se domani mattina Anna si sveglia e dice ma io voglio andare a vedere cosa stanno facendo entro la nuova e cosa hanno fatto finora va e ce l'ha a disposizione quindi è questione di trasparenza non di costi e niente la cosa appunto più bella che abbiamo è gli attivisti che ci danno una mano speriamo che questi attivisti diventino sempre di più poi sappiamo benissimo che insomma l'ultimedia ce lo insegna è una una encicloperia distribuita a livello mondiale in cui è vero che c'erano tantissimi eventi però alla fine veramente gli attivisti chi scrive tanto sono pochi lo sappiamo che così si spera sempre di alimentare questo frutto insomma di non cadere grazie 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 viandosi verso la conclusione io lascerei parlare Gabriella sulla iniziativa degli incontri mensili che è una cosa che hanno pensato poi se ci sono altre domande direi che molto veloce niente perché ormai siamo anche stanti all'ultimo incontro dei consiglieri di zona con il consigliere comunale era venuta fuori questa idea cioè di incontrarci con cadenza mensile non solo per accorgere in qualche modo le nuove persone che si avvicinano al nuovo evento e quindi orientarle un po' rispetto appunto come abbiamo detto questa grande struttura in cui cerchiamo di parte menacce tra varie pagine facebook e c'era nell'occasione volevamo inserire invece appunto anche a Milano un'iniziativa che già esiste a Palermo e che è nata a Napoli e che è la biodiversità quindi un momento di scambio di liberi saperi sul modello che diceva Renato in cui possiamo inserire proprio per partire tutta una serie di informazioni e informazione sui strumenti e su come si costruiscono le cose che poi andranno nell'ite e ci infileranno nell'ite burocratico che ha raccontato Mattia quindi vi informeremo presto su questa iniziativa che già partirà in prossimi mesi e per aspare questa cosa per avviare questa nuova iniziativa c'è un po' in cui raccogliamo le mail con la preferenza cioè se volete o non volete essere contattati proprio in una regione iniziativa Plurimi perché a quel punto c'è Plurina Pluripac e tutte le altre cose in questo stesso modulo potete anche inserire ancora una volta le tematiche che vi interessano perché cerchiamo di strutturare e di dare corpo ai gruppi tematici che sono quelli che supportano poi come ci raccontava Mattia in merito ai vari ambiti le varie iniziative consigliarie e non solo quindi se indirizzate il tema che vi interessa poi inseriamo nei vari gruppi che si costituiranno che sono e portiamo gruppi di lavoro ci sono una domanda un po' su qualsiasi cosa e soprattutto che per chi è nuovo magari la modalità di molte le cose che ha spiegato Renato la modalità in cui può partecipare nei gruppi di lavoro se volete possiamo anche parlare di questo o se no se non ci sono altre parti quali potremmo da soffondire potremmo anche chiusura lasciamo la chiusura la mattina le macchiette le macchiette allora chiusura esatto ci ricorderanno le macchiette poi ovviamente anche le donazioni dato che è sempre tutto autofinanziato anche la sala costa circa 150 euro quindi se vi vale dare un euro così è sempre non avere sposo e riuscire a autofinanziare tutto bene mi aspettano altri sei mesi è bella dura ovviamente e adesso faccio io una domanda a voi però perché comunque ho bisogno di aiuto soprattutto nelle commissioni e nei momenti che non riesco a seguire da soli perché trovo più sovrapposti per loro anche lì in base alle competenze che ognuno di voi ha in base al di fatto o nelle passioni se riuscite a seguire una commissione poi sul sito pubblichiamo gli orari e tutto e fare un report da mettere su internet in particolare quelle che non riesco a seguire per motività e quindi io diventa solo una volta aiutare quello che posso fare da solo da solo una forza limitata ma allo stesso tempo se qui continuate a massare i progetti e tutti i tecnici nei vari fronti diciamo ad avere una potenza di fuoco individuabile e guadalita e tutti i punti più grandi di noi per il resto cerchiamo anche noi di continuare a buttare fuori cioè a far capire come partecipare che è possibile anche se abbiamo solo un rappresentante tutto e soprattutto come portare avanti la nostra mentalità dell'oggiungo vale uno della condivisione in rete sicuramente se vi esisterà cioè come ho dato all'inizio nell'ultimo anno sta cambiando dalla visione del movimento dall'esternizio ma a chiamarci il movimento cinque stagli progettivi in parte perché proprio non possono farne più dal 10% che c'è in un treno in un'unità in Romagna anche qua sta crescendo tantissimo ma il numero è solo la conseguenza di fare politica in un modo diverso stiamo imparando questi 6 minuti sono stati durissimi come per me come per i consiglieri iniziali è stato un momento di avvio stiamo imparando un mondo nuovo e si sbaglia certo allo stesso tempo però il votare a progetto il votare senza il partito che ti dà una una linea mostrando assolutamente vincente con anche altri giovani del consiglio comunale si trovano anche in difficoltà a non poter votare quello che vorrebbero e questo è fantastico poi allo stesso tempo ci sono delle grandissime soddisfazioni quando o il personale del comune o altri dipendenti si avvicinano e ti fanno i complimenti qui non abbiamo mai fatto nessuno così in tutti gli anni queste sono piccole soddisfazioni che ovviamente come movimento sono automatiche per me dobbiamo rimanere come lavoriamo in ogni occasione e ovviamente anche una risposta a chi diceva di entrare dentro diventerete tutti come gli altri la risposta e le occasioni ci sono già state ci hanno offerto milioni di euro per i rincorsi elettorali ci hanno offerto i BDF ci hanno dato il modulo per candidare le persone nelle municipalità che non l'abbiamo fatto quindi non c'è nessun presupposto soprattutto in tutti i momenti che c'erano occasioni di diventare come gli altri non l'abbiamo fatto perché non ci interessa e allo stesso tempo il fatto mio di poter essere sostituito in quel momento rimane la postata più forte questo secondo me è proprio la cosa su cui dobbiamo notare tutte le legislature di poter essere sostituito la riconferma semestrale ovviamente sono importantissime come ci hanno già detto in dei video online così non è che vengono tantissime persone come oggi ma nel caso deve esistere la possibilità di poter sostituciare il consigliere eletto è questo lo strumento ovviamente è uno strumento che si attiva nel caso ci sia una necessità come la rete la rete da forza che ha idee la rete su facebook più un materiale di qualità più o è fatto bene o ha dei contenuti validi più viene condiviso da altre persone e questo si vede in maniera esponenziale proprio su facebook la forza ha idee e anche lì un'altra cosa è non stare dietro a Emilia agli giornalisti io i primi giorni in cui ero a Palazzo Marino c'era sempre il gruppetto di telecamere di fotografi di cose che andavano a chiedere le opinioni sui vari argomenti e da lì a noi ci schivavano a me schivavano posso dire anche io una cosa dato che ne ha fatto l'unico intervento così no non mi interessa o non è per darci visibilità o comunque sono abituati a parlare solo di quello c'è un po' un circolo vizioso i giornalisti parlano di quello che viene in consiglio comunale i consigli comunali fanno vedere quello che interessa i giornalisti che non ne escono su internet si erano totalmente sganciati e poi in ogni caso non va dietro a agitare come Repubblica comunque ha preso il nostro in ogni caso sull'evento di Facebook di oggi a trovare pubblica però questo è bellissimo non farsi inseguire cioè non inseguire noi fare inseguire Mattia le mail le cartacee dove si sono registrate se no possono scrivere alla segreteria ma si sempre per rimanere in contatto per la fluida sarà comunque gli accumbamenti sul territorio c'è il modulo all'entrata dove si può lasciare valere oppure la link della segreteria che è segreteria 5 stelle milano gmail.com ultime domande noi chiudiamo se riguarda un rapporto con la stampa per essere giornalista dovresti ricevere le richieste di interviste da fatti giornalisti mi rilasciresti a chiunque se con la stessa giornalista c'è che mette la pagina oppure per la selezione in base se il tuo lavoro che c'è il termine di un giugno no come interviste quando me l'hai chiesto io mi sono offerto assolutamente a tutti i giornalisti che l'hai chiesto indipendentemente dal giornale in alcuni casi quando mi chiedono opinioni su argomenti che non ci interessano che sappiamo che utilizzeranno per farci un coro per darci contro lì è andata ad autare per esempio c'era Luvera Libero che voleva fare un articolo su una spaccatura del movimento to' così lì sono quelli che usano strumenti al piede per darci contro mi chiedo di cosa si vuole parlare se sono di progetti ok va benissimo se sono lì per parlare per fare la presentazione di un giugno il politico che dà l'opinione magari non ci interessa noi all' stesso tempo se vogliono informazioni comunque le possono vedere dai nostri sentiti come un coro cittadino bene direi che il messaggio è pienissimo grazie a tutti e vi ringrazio grazie a tutti l'accoglienza agli attivisti grazie a tutti grazie a tutti alla prossima e partecipate adesso cominciamo la revisione con la vera allora vi dico cosa bisogna fare scherzavo bellissimo che cazzo quindi lo posso postare adesso registrato aspetta allora ci arrompiamo ciao veramente ciao a tutti e grazie dei 164 contatti totali della giornata con una media di 30 persone collegate grazie a tutti potevate venire anche qua che ci vedevamo in pass è un po' lontano 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 aspetta mi interrompe la diretta i consiglieri di zona 2 mi vuole insultare mi vuole insultare ciao ragazzi guarda 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 che gente guarda che gente oh che sto ancora indietro le risse oh basta non fate sesso in diretta ciao a tutti arrivano le riprese due delle camera ragazzi ma togli il saluto eh dovevo spegnere stop